ben trovato martin come stai si sta bene insomma intanto che ci si vede così perché no beh sì sì anzi queste sono anche le possibilità della tecnologia mi sembri operativo ecco come si diceva i vecchi tempi operativo quindi mi dai proprio l'aggancio per cominciare a parlare anche di un po di cose stiamo se sei tu che comandi che comandi il ballo questa volta no beh come ti ho detto una chiacchierata che ci tenevo a fare proprio per perché è un formato creato appunto per lasciare dei dei punti noi in modo che non vadano più via presentare un po di persone che per me sono state anche importanti e che hanno segnato anche il mio passato il mio presente probabilmente anche il mio futuro partiamo da da qua siamo obbligati a partire da qua poi che ci vuole riconoscere ci riconoscerà noi non importa che diciamo sono con noi è sicuramente un momento significativo insomma visto così potrebbe essere quasi quasi anche troppo goliardico e ma però c'è dietro qualcosa di dai di più profondo assicurato questo sicuro è l'hai detta esattamente nel modo giusto detta così può sembrare goliardico infatti perché comunque ci siamo conosciuti negli alpini ogni volta che racconto come comunque qual era l'addestramento neanche come venivamo trattati perché eravamo alpini quindi quello è l'addestramento punto cioè quindi poi sia te che io abbiamo avuto uno dei comandanti più in gamba in quel periodo comandante viola quindi visto così sembra goliardico invece era molto più dura di quello che sembra molto più duro ogni volta che lo racconto la gente non ci crede pensa che si stia esagerando invece così non è assolutamente assolutamente dopo come come abbiamo detto più volte logicamente il punto il punto di rottura inteso non come disturbo era veramente il fatto che insomma c'era chi era più predisposto a a fare questo e chi ne non sono qua nella fotografia che stai presentando per esempio si poteva avere uno 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 schema completo di quello una una un ventaglio completo di quello che poteva essere un ragazzo di quell'età insomma venuto da da un paese da una campagna spesso anche da da diverse grosse città italiane con realtà completamente diverse però insomma c'era 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 un punto d'unione qua potremmo dire portato che ci metteva tutti nonostante la vecchiaia di servizio quasi quasi allo stesso piano c'era veramente in un certo senso un'inclusione un po' di tutto di tutti insomma no sì sì eravamo lì quindi tutti nella stessa barca letteralmente tutti nella stessa caserma noi eravamo san candido no 3 km dall'austria c'era anche gente di napoli c'era anche gente di napoli questo me lo ricordo che accumulava le i giorni di permesso per poter andare e tornare altrimenti non ce la facevano e allora non c'erano ancora le frecce rosse che raggiungi napoli in sette ore assolutamente c'erano i treni della speranza questo che ho scoperto di antolto ce n'era uno da torino a lecce l'antolto quello faceva tutto c'era tutta proprio l'italia da non c'è più questa è una sera particolare a proposito di e vabbè comunque noi siamo diventati amici appunto quando sono arrivato al plotone no comandare il plotone sono tornato alla alla 6 3 si con viola e venivo da una situazione molto particolare io ho una curiosità che le perché non ti ho mai chiesto tra l'altro è vero ma voi sapevate quello che stavo combinando mettiamola così con il capitano della sette quattro ma io non ho mai capito come perché l'ho convinto ovviamente di essere completamente da solo in quella situazione non ho mai capito come fosse arrivato a voi quello che stava accadendo con la sette quattro tutti ricordi qualcosa o sicuramente quello quello allora no non la si può considerare o mertano assolutamente si sapeva no si sapeva ma si cercava di non sapere c'è succedeva che sapevamo quello che dovevamo sapere ma per anche per solidarietà rimanevamo uniti e non so come spiegarvi insomma no è senza creare scompiglio nell'andare a punzecchiare sulla situazione insomma non so come si si ho reso l'idea si si è una delle tante situazioni che si vengono a creare in queste situazioni per carità e quindi non c'era tempo per le frivolezze mettiamola così quindi si cercava cioè noi siamo diventati amici perché in quella in quella situazione era impossibile non vedere che vivi di fronte no tu eri tu l'hai detto in un modo più più aulico esattamente era era una forma di silente solidarietà tu c'eri tu c'eri magari non lo manifestavi a 360 gradi tu c'eri insomma no era così quando incrociare lo sguardo di qualcuno in questo corridoio proprio sotto quell'archetto lì era sufficiente insomma no leggevi negli occhi quello che succedeva però non era una cosa che proprio ieri parlavo del fatto della sensibilità con con delle persone adesso non è il caso di dire né che situazione né che 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 professioni avessero queste persone o niente di che però si parlava del fatto della sensibilità insomma no della sensibilità della del fatto di capirsi a in prima istanza così a pelle no e in quel in quella situazione lì era una cosa del tutto naturale naturale e distintiva spontanea insomma io nella mia persona soffro molto questa cosa qua nei giorni nostri chiamalo così per il fatto che ormai io ho una famiglia insomma no e mi capita tutti i giorni con i miei figli tu cerchi di insegnare ai tuoi figli dei valori e che molte volte purtroppo quegli stessi valori che tu insegna ai tuoi figli sono quelli che creeranno nella società che c'è al giorno d'oggi difficoltà nell'andare avanti no? perché tu insegni il giusto insegni ad essere corretto insegna ad essere solidale tu sei non la pecora nera sei quasi il lupo cattivo insomma no? vieni visto veramente come diverso perché non ti adegui a quella che è la situazione del gruppo e non è necessariamente che deve essere una... al giorno d'oggi vedo che c'è... c'è molta molta indifferenza ed è una indifferenza molte volte dovuto al fatto che oltre alla frenesia sai al giorno d'oggi è più facile... per esempio questa fotografia te l'ha avuto lì? salto da un campo all'altro? no no anzi perché fu una sera molto particolare in realtà è una di quelle situazioni che sottolinea esattamente quello che stai dicendo non c'erano scale di grigio non c'erano... era così diretto chiaro... e te proprio nel... non c'erano questi filtri proprio dovuti appunto a dove eravamo all'addestramento non era possibile distrarsi con le cose che c'erano di fuori... a te lasciavo il comando del plotone quando dovevo andare a fare altre cose... avevo identificato te come quello che poteva prendersi cura di quei 50 60 uomini e non è una roba scontata... ed era lo stesso motivo per cui anche viola affidò a me il plotone perché io lì per lì non capì perché mi diede un plotone... eravamo capolari no? perché mi dai un plotone? perché ci dai un plotone? anche viola l'aveva visto... cioè era diretta la cosa... non c'erano interferenze in tal senso... esatto... e questa era in effetti una sera molto particolare dove abbiamo anche saldato ancora di più l'amicizia in effetti... me lo ricordo ancora... questo questo scatto... lo vedi così... lo vedi così... per un anonimo potrebbe essere... ripeto la stessa parola di prima... goliardica... particolare... qualcuno al giorno d'oggi potrebbe dire anche ambigua... assolutamente... qui in questa foto... innanzitutto... te lo posso assicurare... c'erano due ragazzi che in questa situazione hanno imparato a fidarsi l'uno dell'altro... a volersi bene... ed era una cosa veramente... la parola giusta... non esiste un'altra più adeguata... era una situazione fraterna... veramente di fratellanza... di fiducia... è come quando... io non ho... non ho... biologicamente... un fratello maschio insomma... però... è come qua... con un fratello ti capita di... 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 di amarlo... odiarlo... litigarci... parlarci... sfogarti... e tutto... ecco... succede... succedeva... succedeva spesso questo... ti alzavi... con... con la luna storta... perché... avevi parlato con... con la fidanzata... e... 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 il... il ... tarno della testa cominciava a lavorare... male... no? eh sì... e... 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 è una stupidata... una situazione... stupida... da ragazzi... di... no... no... non lo era... no... non lo era... perché adesso è difficile paragonarlo, perché noi eravamo obbligati a andare a fare il militare o comunque a servizio civile, che poi è interessante anche ulteriormente pensare a questa cosa, perché chi andava a fare il servizio civile il più delle volte l'ha visto anche male, ma anche perché la maggior parte di quelli che andavano a fare il servizio civile è perché avevano paura di andare a fare il militare. Cioè uno dei motivi per cui io andai a fare il militare è perché sapevo di avere paura di andarci, e questo è il paradosso. Poi sono finito, no? Nella Santequattro, il Capitano, in una situazione poi a tre chilometri dall'Austria, però il Pino con le montagne e tutto il resto. È difficile riuscire a fare un esempio oggi, perché c'è chi dice, beh, è come l'Erasmus, no, magari fosse stato come l'Erasmus, dove vado comunque, capito, all'estero a studiare, non è come l'Erasmus, cioè lì veramente arrivavi e tutti venivano azzerati, no? Che peli 0-3, no? Tutti devono essere uno uguale all'altro e difficilmente riuscivi a tornare a casa. Adesso, bene o male tu eri vicino a casa, quindi penso che comunque anche uscendo la sera, anche forzatamente riuscivi comunque ad arrivare, anche se magari era una tirata, dove, o comunque potevi incontrare qualcuno cui tenevi, no? Certo. A metà strada. Trovarlo a metà strada in un caso di emergenza o... Ma tutti noi, cioè tutti gli altri, no? Ed era faticosissimo tornare a casa, perché se sbagliavi anche solo una cosa, la licenza non te la davano. Cioè io conoscevo persone che non andavano a casa da sei mesi, sei mesi. Quindi immagina avere una compagna, avere anche altre situazioni, però la cosa più comune a quell'età era avere una compagna, una fidanzata, una ragazza. E conosco tante storie dove effettivamente anche Guarnone, anche lui, anche lui, adesso non so se tu ti ricordi Guarnone, anche lui ha avuto una situazione simile. Aveva una ragazza, la tropeva militare, e poi durante il militare l'ha persa. Cioè questo l'ho riassunto, ho capito? E anche lui non ci stava dentro, perché non hai modo di risolvere. Non c'erano i cellulari, non c'era internet, c'erano i telepoli, c'era un orario preciso in cui potevano andare a telefonare la sera. Era proprio lì che volevo arrivare, insomma. Adesso abbiamo, ti ripeto, questa foto parla e parla per il fatto che in questa serata era stata una situazione di rarità aver documentato con tante fotografie in questo modo, perché non era normale fare con una macchina tradizionale, diciamo, a rullino. A pellicola, economica, sì. Tu lo sai molto bene, insomma, tu sei un artista fotografo. Ma anche te, anzi. Un rullino te lo dovevi far durare. Io ho le fotografie dei miei primi viaggi, dove, sì, te lo ripeto, anche in questa situazione, ogni viaggio, ogni esperienza che ti rimane nel cuore, ti rimane veramente impresa nella mente, nel cuore, tutto quello che hai visto. Però logicamente la fotografia di una volta ti lasciava anche spazio a dire questa è la situazione perfetta da immortalare per i posteri, per l'eternità, insomma, ecco, no? Questa foto, come ti dicevo, è, secondo me, così, è parlante perché per te, per me, questa è la foto di due fratelli che si volevano bene, che ancora adesso si vogliono bene e continuano a vedersi in questa foto con un'altra età, però, con lo stesso sentimento, la stessa ideologia che c'era in quel momento lì, insomma, no? Sì, sì, sì. Non è una politica assolutamente né politica. Tu hai nominato prima appunto gli obiettori di coscienza. Qui non c'entra assolutamente il fatto... Io penso che ho fatto il militare e tu l'hai fatto pure, presumo, per il fatto che in quel momento lì sicuramente avevi una maturità tale, e perché no? Si prova anche questo, insomma, no? In realtà io l'ho fatto proprio perché sapevo di averne paura. Cioè, il fatto di non andarci, magari, andare a fare l'obiettore, magari, ovviamente, perché poi abbiamo scoperto nei militari che quell'indole di cercare di essere... di aiutare, di avere cura del prossimo. Cioè, o ce l'hai o non ce l'hai. L'abbiamo imparato... Io ho scoperto... Era così anche dei superiori, ma non ne avevo tutta questa evidenza, proprio perché nella vita di tutti i giorni non riesci bene a capire se è così oppure no, oppure lì o ce l'hai o non ce l'hai. Ho avuto questa evidenza mentre ero lì e ha confermato anche il fatto del... Cioè, se io fosse andato a fare l'obiettore, ovviamente, probabilmente, avrei comunque avuto cura del prossimo. L'avrei fatto nel modo corretto e purtroppo, bisogna dirlo, uno dei pochi che l'avrebbe fatto nel modo corretto. Perché, ripeto, allora l'obiettore era una delle soluzioni più comode per non andare a fare meditare. Questo creava un... chiamiamolo un'indiretta consapevolezza in chi effettivamente era andato perché aveva paura di meditare di non essere, tra virgolette, di essere scappato via. Cioè, che gli piacesse o meno dovevano convivere con questa cosa qua. Io invece, proprio per questo, perché non volevo convivere con qualcosa che sapevo che effettivamente era... quello è il motivo principale, no? Cioè, se io fossi andato a fare l'obiettore sarebbe stato perché avevo paura di meditare. Ma tutti quelli prima di me, no? Pensi a tuo padre, pensi a chi ci è andato prima di te, l'hanno fatto. Cioè, lo so che magari adesso è strano parlare in questo modo, però io sapevo di averne paura, non volevo avere quella paura. Alla fine era un annetto quello che era, no? Quindi, sono andato, non mi immaginavo che sarei finito negli alpini, caserma operativa, poi la migliore caserma, tra l'altro, in quegli anni era 7-4 del capitano, vinceva da tre anni casta. Capisci cosa voglio dire? Cioè, più di così. Poi fino ad arrivare, appunto, a comandare il potone nella 6-3 di Viola, non immaginavo sarebbe andata così. Però, devo ammettere che è stata un'esperienza molto molto utile per capire chi ero. Perché, poi tornato, ci ho messo un po' a riconnettere, ricordarmi quello che sepevo fare prima di andare negli alpini. Ma è stato molto utile. E non credo che si debba tornare alla leva obbligatoria. Più che altro perché c'è o quell'obbligatoria che non va bene. C'è la mininaia, se uno vuole lo può andare a fare. Deve essere comunque... Io rimango dell'idea, per due motivi, rimango dell'idea che sarebbe meglio e che è meglio il volontario. Perché se c'è la leva volontaria significa che siamo in tempi di pace. Non c'è alcun rischio dall'esterno, capito? Invece, quando c'è la leva obbligatoria è perché c'è un reale rischio dall'esterno e nel periodo in cui viviamo potrebbe anche tornare una leva, purtroppo. Non è utile a tutti, come molti dicono. È utile a chi è già in quel modo. Leva o non leva. Sì, sì, devi essere comunque predisposto. Esatto. Perché altrimenti ne abbiamo visti tanti uscire fuori di testa. Io ne ho visti. Mi ricordo anche quando ero comandante di Plotone i primi giorni nel Plotone che comandavamo c'erano tre che si misero a piangere per l'advestamento formale, cioè l'attente riposo, si misero a piangere. Me lo disse il comandante Viola e io un giorno dopo io domandai proprio al comandante Viola e mi ricordo che mi venne istintivo e lì capì perché mi aveva chiesto di comandare il Plotone se potevo portarli il giorno dopo dall'ufficiale medico per declassarli. Declassarli cosa significava? I fucilieri e gli assaltatori come eravamo noi erano abili di prima, c'erano questi otto fattori, fino all'abili di quarta comunque andavi a fare militare. Questi erano fucilieri e assaltatori però mentalmente non ce la facevano reggere, si misero a piangere praticamente il primo giorno e io li portavo dall'ufficiale medico e gli chiese se poteva declassarli proprio per evitare, eravamo di leva, non puoi, capito, non posso riusciermi fuori di testa. No, non va bene questa cosa qua. E lo fecero, in realtà ho trovato una situazione al di là appunto di quella da cui venivo, di solidarietà, quindi anche appunto negli ufficiali stessi, la maggior parte degli ufficiali che ho incontrato negli alpini erano veramente in gamba e capivano, devo dire la verità. e questo è stato veramente un toccasana, mettiamolo così. No, no, questo te lo posso, te lo posso, lo posso confermare assolutamente per tutto, tutti i posteri, tutti quelli che non lo so se ci vedranno o sì o no, però posso assicurare il fatto che io ho visto tanta gente in marcia piangere sotto la bufera o sotto la pioggia o sotto lo stress della fatica fisica e anche mentale insomma, no? La stessa. E invece la cosa bella che sono sicuro che almeno io ho trasmesso perché sono sicuro che l'ho trasmesso è il fatto del essere in una situazione di difficoltà e poter comunque insomma, se sei sotto sotto stress, sei nella pioggia e ti tocca ballare è inutile che ti fermi, continui a ballare almeno stai caldo e sei mentalmente distratto pure insomma, no? Eh sì, che è proprio una delle basi dell'insegnamento degli alpini se c'è freddo l'unico modo per scaldarti è muoverti perché ovviamente la grappa è un basso di datatore quindi non è così via non c'è altro non c'è altro che poi dico grappa sembra che siamo degli alcolizzati però ci davano a colazione cinque tipi di grappa questo me lo ricordo ancora è una delle massime certo ho ancora qualche souvenir insomma non so se dire insomma in pubblico però e quindi qua è dove ci siamo conosciuti ma trovo anche molto interessante quello che tu mi raccontasti del dopo infatti fino ad arrivare questa foto del martin palegname questa foto io la doro ecco come scolpisci io ti dico una cosa allora ti posso sintetizzare visto che sei nell'argomento allora se posso dire qualcosa riguardo alla mia vita da militare insomma da servizio militare come che abbiamo frequentato insomma no ci sono due due episodi molto ma molto significativi che a me sono rimasti impressi ce ne sarebbero altri insomma magari non sono proprio così tantissimi però se ce ne sono alcune che ti ricordi più degli altri ci sono due uno prenaia premi servizio militare tanto perché si capisca che non si parla di cose buttate lì né fantasie né leggende metropolitane io quando sono andato a fare la visita la visita per l'abilitazione come sai insomma seri abili quelli che venivano chiamati tre giorni allora praticamente io vado al distretto a Trento ricevo la cartolina insomma andare al distretto fanno tutte le visite fisicamente era tutto a posto e a un certo punto c'è la famosa visita psicologica ah sì sì e in pratica c'era c'era da fare questo test e c'era la famosissima fatidica domanda ti piacciono i fiori non so se te la ricordi sì mi ricordo che era ti piacciono i fiori allora c'era una domanda che era un'unica cosa ti piacciono i fiori oppure se tu fossi una donna ti piacerebbe essere corteggiata era un'unica domanda io non capivo che poi ha un nome quel test centinaia di domande cioè come fai a rispondere sì o no che poi penso che ora l'abbiamo anche cambiata quella domanda in particolare però me la ricordo me la ricordo era di una di un'ambiguità cioè ce n'era una quarantina ambigua poi ti dico perché so che erano la quarantina sì sì di la tua e dopo insomma la questione è la questione che non ho visto sai sono partito in quinta fare questo test avevo un attimino la boria un po' del ragazzino un po' del montanaro insomma ho detto questa qua è una grande cavolata insomma per dirla senza francesismi pensare la stessa cosa questa cosa non ce la sono mai detta la stessa cosa ho avuto anche io la stessa reazione e ci ho messo sì era senza senso io ci ho messo sì cioè piacciono i fiori beh sì sì certamente insomma la questione che causa questa domanda qua io sono andato a visitare tu lo sai bene che io sono nato in Sud America sono nato in Argentina sono arrivato in Italia che avevo 13 anni e la visita era a meno di 18 o 18 insomma quello che era 16 anni i tre giorni erano due anni prima esatto ecco allora calcolo che io ho visitato per la seconda volta nella mia vita la prima in un modo molto sfuggente la seconda volta nella mia vita ho visitato Verona con gli occhi un attimino più aperti del ragazzo più maturo insomma no apprezzando tutto l'arte a Verona ti mandarono ma tu abitavi già in Tirolo o insomma in Trentino io in Trentino in Trentino e mi erano una verona e praticamente logicamente io ho saltato mi ricordo che ho aspettato tantissimo una mattinata e dopo mi hanno liberato e dopo mi hanno fatto tornare perché praticamente dovevi andare a fare tipo una registrazione ti prendevano le generalità dal momento che non avevo nessun problema fisico in quel momento lì insomma mi hanno mandato in giro e dopo dovevo ritornare verso le due mezza tre del pomeriggio una cosa del genere a fare questo colloquio psicologico e mi ricordo che c'era una una dottoressa a farlo insomma no sì non lo so cioè in quel tempo lì era una persona esterna insomma no un esperto esterno e ha cominciato a rifarmi questo test però in modo verbale insomma no e la questione che arriva al punto mi spieghi in che senso a lei piacciono i fiori insomma no e io insomma con una naturalità incredibile quasi da da bambino in questo caso qua gli ho detto ma perché non dovrebbero piacermi i fiori insomma così che hanno di sbagliato i fiori a me piacciono i fiori sì certamente insomma no tu lo sai era sbagliata l'associazione che facevano adesso effettivamente quella domanda probabilmente non c'è più ma era sbagliata l'associazione in accezione negativa a cui la collegavano eh sì io mi ricordo che ero stato lì a chiacchierare perché dopo era diventata una chiacchiera insomma no io lì ho fatto la testa così a questa tu lo sai molto bene che quando trovo l'ambiente giusto la situazione giusta e la persona giusta mi piace parlare insomma no altrimenti è una cosa a pelle se tu se trovo qualcuno davanti con la quale non riesco a distaurare assolutamente alcun rapporto energetico chiamalo così anzi c'è una completa un completo allontanamento insomma no io sono un po' come tu lo sai bene come sono in montagna ci sei stato la frequenti pure come sono i camosci insomma ci sono certi maschi soprattutto che si lasciano avvicinare fino a tre metri e dopo un certo punto hai raggiunto il punto limite dopo non mi vedi più ecco insomma no eh sì certa gente se tocca certi tasti particolari tu lo sai molto bene sono un po' selvatico e tu lo sai molto bene però mi ricordo con questa persona questa questa dottoressa avevamo instaurato questa conversazione l'ho stato lì un sacco di tempo e io gli ho spiegato la mia motivazione ma glielo glielo proprio documentata insomma scientificamente insomma no nel senso a me piacciono i fiori perché mi piace la natura e la natura per me non posso dire religione e spiritualità insomma wow questa foto qua questa qua è una foto marmolada marmolada ci siete stati anche voi dell'S3 sì sì questa parla questa parla e guarda è una cosa fantastica io mi ricordo queste queste passeggiate perché per me adesso un po' meno perché comincio a far fatica pure però in quei tempi lì erano delle passeggiate per me era era fantastico e quante volte mi sono messo mi sono messo a fischiare in mezzo alla tempesta lo faccio ancora adesso a volte sono sotto la pioggia perché questo va detto parte dell'addestramento era letteralmente in qualsiasi condizione climatica ogni mattina andavamo a correre 10 km prima di colazione me lo ricordo ancora e arrivamo in inverno arrivamo là qualsiasi condizione climatica maglietta corta pantaloncini corti ed era l'acclimatamento quello che adesso viene definito l'acclimatamento per abituare il tuo corpo alle condizioni quindi quando eri qua si schiattava vomitava eh sì sì noi sul sul pis d'alek beccamo la tormenta di neve me lo ricordo che noi andavamo comunque avanti persi tutto il tutto il primo polotone della 7 e 4 però poi li recuperammo alla seconda ferrata perché non avevano lo stesso addestramento che avevamo avuto noi questa cosa è molto interessante però sì quindi comunque torniamo al discorso dello psicologo quindi quello è stato una delle prime cose mi dicevi uno dei due momenti sì sì allora io avevo motivato questa professionista questa dottoressa questa foto questa foto mi sembra che l'ho fatta io proprio è in Val d'Otene può essere sì questa è la Val d'Otene una fantastica balata dolomitica questa è la parte basale insomma della 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 vale risalendo ci sono dei dei maceretti pazzeschi che risalgono fino in cima all'antelao una 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 fantastica una 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 dislivelo pazzesco perché parte molto basso in questa zona qua i paesi sono veramente si può dire fondo vale parti da parecchio in basso e arrivi fai anche in una giornata i duemila metri di dislivelo quando fai un'escursione s sono 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 escursioni di di un impegno abbastanza rilevante insomma ecco scusa che sono saltato sulla fotografia ma ma è l'altro è l'altro l'altro episodio quello è stato durante durante il militare mi ricordo che vabbè ero famoso per il fatto che ti ricordi le cantoni insomma no si se le insegnavano insomma no si era 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 un buon modo per 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 socializzare insomma no avevi da cantare avevi da parlare un sacco anche quando ti facevi la 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 bevuta non era una bevuta da barahonda era una bevuta da da l'atellanza l'ha detto tu prima di queste cose così in trasmissione però è una bevuta di meditazione di si no non lo so c'era c'è qualcosa che che manca al giorno d'oggi manca insomma oggi ti fai vai a farti un giro tutto deve essere instagramabile qua non c'era niente di instagramabile assolutamente no non c'erano social infatti come dicevo prima è difficile riuscire a rendere bene quel periodo però è così non c'erano tutte queste distrazioni le esperienze che facevi erano incredibili incredibili io mi ricordo le volte che in marcia qualcuno mi avrà detto tornando all'argomento della della dottoressa alla quale avevo spiegato che ero appassionato di natura di montagna di botanica di 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 un po' di tutto insomma no io mi ricordo quante volte ho fermato i primi ragazzi che c'erano lì a guardare un'orchidea spontanea o o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a erba medicinale immagino sì e queste cose quando ricevo la telefonata di qualcuno se lo ricorda qualcuno l'ha raccontato addirittura ha raccontato questi aneddoti a a mio figlio che insomma è in un'età adolescenziale e insomma sgranano gli occhi quando sentono certe cose ragazzi sono esperienze esperienze è difficile da credere che effettivamente sia possibile farle qui però vedi ho una foto che documenta chissà se anche questa è tua quello che abbiamo detto la tormenta è montagna non hai altro modo o vai avanti o torri dietro e andiamo avanti giustamente sì dopo qua è vista a vista così cioè dici avevamo una tecnica una tecnica magari alpinistica escursionistica che al giorno d'oggi non non esiste più insomma no eppure nessuno si era fatto male nessuno no è vero incidenti ma non proprio da sì è vero è vero no 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 non c'è morto nessuno ho detto come va e dopo l'attrezzatura l'attrezzatura vabbè quella che quella che era sì però ci hanno insegnato bene come a fardellare lo zaino insomma ci hanno insegnato bene come andare montagna c'era una una buona buona base sicuramente ah guarda come si come si attraversa correttamente il famoso canapone che ogni tanto vedi film che invece sono sotto qui eravamo con la folgore qui eravamo ci stavamo destando con la folgore e rimaniamo incredibilmente a sorpresa del fatto che la folgore non era quello che pensavamo che fosse non riuscivano a starci dietro questa roba ci stupì cioè quell'età la folgore no la vedi come il miglior corpo e invece non riuscivano a stare dietro a noi alpini ebbè ma questa cosa qua la si manifesta anche mi ricordo che avevano fatto le esercitazioni inato e qualcuno veramente si sorprendeva di vedere come alla fine eravamo tutti dei ragazzini che venuti da realtà diverse completamente diverse assolutamente da parte d'Italia riuscivamo ad avere delle performance alpinistiche escursionistiche insomma particolari ecco guarda qua questa questa scena è molto molto significativa molto molto bella qua siamo in Dolomiti vicino tanto per far capire al pubblico guardando le montagne insomma del Cadorino dalla parte dell'Ampettano insomma ecco la direzione qui era durante il campo sempre con la 7.4 e dove abbiamo appunto eravamo nelle Dolomiti e abbiamo fatto tutto a piedi tutta quella zona ma a guardare adesso quanti chilometri abbiamo fatto soltanto in montagna veramente non ci credi che sia possibile a quell'età sì effettivamente era possibile farlo sì sì effettivamente effettivamente comunque ti ho distratto con dicevi appunto quindi il primo era il discorso della psicologa che ti ha segnato e dopo il secondo il fatto del riuscire a trasmettere agli altri una cosa che sicuramente quello che quello che potevi lasciare era semplicemente non so un messaggio di rispetto un messaggio e qualcuno lo apprendeva bene insomma far far capire insomma che nella situazione che eravamo eravamo lì in quel momento lì bisognava farlo bisognava prendere la cosa migliore dalla situazione che c'era insomma eravamo in un ambiente che ancora adesso lo è in quel tempo lì era ancora più bello ancora più più integro in un ambiente naturale incredibile perché non approfittare del fatto di poter fare un'esperienza del genere insomma no sì sì anzi BG era l'unico altro del mio scaglione che in modo del tutto naturale non lo avresti mai detto lui era l'alpino pancabestia era l'unico altro che insieme a me aiutava gli altri proprio nel modo più naturale istintivo eravamo 151 e questa cosa è molto interessante perché fuori da vedi questo è un esempio molto interessante fuori da lì non gli avresti dato due lire perché pancabestia perché tutta la storia del perché anche lui aveva la mia stessa età anche lui si chiama Alessandro tra l'altro di Genova fuori da lì fuori dalla caserma nessuno si sarebbe mai accorto che un pancabestia fosse uno che si preoccupava per gli altri e invece Biggie era un po' Malcolm X mettiamolo e purtroppo l'ha fatto dopo i cinque mesi iniziali sa che dopo i cinque mesi è tutto di rigore e si è fatto un mese e mezzo in più però aveva ragione e come si aveva ragione era interessante perché lui era molto Malcolm X nel dare conto certe cose che non erano giuste e corrette io ero più invece Martin Luther King infatti lui il puglio chiuso io la mano aperta fu molto però tutt'adue avevamo questo istinto che poi avevi anche tu di non potevi fare meno di aiutare che vive attorno a te ma ripeto fuori da lì lui è l'esempio perfetto nessuno se ne sarebbe mai accorto avrebbe avuto modo di far capire questa cosa ma c'è una cosa significativa in questa foto anche qua un'altra delle foto parlanti insomma il cappello che bisognava modellarlo insomma li dovevi dare ecco e mi ricordo che che tutti venivano da me perché avevano già visto quando ancora era una recluta con quale destrezza ero riuscito a modellare il mio il mio cappello insomma seguendo le indicazioni che mi aveva dato che mio padre insomma quando ho portato il cappello devi fare così allora avevo cominciato a modellarlo e dopo veniva tuo padre è un alpino tuo padre è un alpino quindi sì 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 lui anche ha fatto ha fatto il militare in pusteria nella vecchia caserma che non esiste più di 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 monguelfo sesto alpini sempre però battaglione trento insomma dopo vabbè sono i battaglioni sono andati sono scomposti riformati ma adesso anche le le brigate adesso c'è solo c'è solo una la taurinense la taurinense non c'è più certo certo ma poi ci davano abbiamo chi non non lo sapeva fare l'ha imparato io ho tentato cioè anche il freggio cioè ti cucivi tu tutte le cose certo anche in questo arrivavo il fatto del cucire sistemarsi una una casacca un pantalone insomma no arrivai preparato anch'io non sapeva farlo e dovevi farlo e insomma e tu imparavi vedi quando diciamo problemi a cui non adesso non pensi nel senso anche se non sai farlo in modo lo trovi allora ero obbligato se non lo facevi cavolo era un giorno di punizione punto sì sì non c'erano alternative esatto esatto per non parlare per non parlare della cura della cura che comunque dovevi avere della persona insomma nel senso c'è la persona della divisa di tutto è brutto è brutto fare questo questo paragone insomma no però a volte mi era capitato nel corso della mia vita insomma ho fatto anche didattica ambientale nelle scuole mi capitava di andare soprattutto nelle scuole medie e superiori soprattutto e ti trovavi delle situazioni così imbarazzanti perché dicevi come è possibile che non ci sia alcuna cura della persona insomma e ancora adesso si vede che molta gente molti giovani di questa età come ci sono in questa foto qua e curano poco la persona noi in questo in queste in queste foto sembriamo un pochettino così scompiliati però dovevi avere una cura della persona veramente quando potevi lasciare la barba a un certo momento del tuo servizio dopo qualche mese subito no subito tutti uguali dopo qualche mese soprattutto poi se ti avevano dato il grado potevi la barba o anche i capelli dovevano essere sempre in ordine tu dovevi avere i capelli 0-3 adesso non so viola ma 0-3 né più corti né più lunghi assolutamente e questa questa qua potrebbe sembrare appunto un'imposizione veramente da da nazisti parlando in questo modo non so se si può dire però no non c'era niente di male dovevi comunque non era tra l'altro ti posso garantire che vedi per non creare preintendimenti ti posso garantire che ovviamente non c'era anche un discorso politico di quel tipo perché per esempio cioè era proprio a livello pratico quindi i capelli 0-3 perché così non dovevi stare lì dietro li lavarli via no addirittura con il sapone e addirittura se invece c'era qualcuno che aveva i capelli rasati a zero e questo mi ricordo capitò già a Merano lo ricordo ancora c'era un ragazzo in particolare per omaggiare capito un tal benito a suo tempo e lui gli dedero immediatamente a tre giorni di vigore per chi dipende la bandiera quindi non c'è quindi quello che la gente pensa che ci potrebbe essere no ovviamente no cioè no cacchio lo scopo è la difesa e cosa faccio divento anche un estremista di un qualche di una politica no 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 questo lo posso assicurare per chi ascolterà insomma che non c'era non c'era assolutamente ideologia di parte insomma in tutte queste aziende assolutamente comunque ti ho distratto appunto con queste immagini qua e stavamo parlando appunto che hai avuto questi due momenti nei militari io ti dico la verità io in quel momento lì l'ho vissuto l'ho vissuto bene perché tutto sommato nonostante le fatiche nonostante certe imposizioni che c'erano l'attività che facevi mi piaceva insomma era stato chiesto pure se volevo rimanere insomma dopo anche a me vedi anche a me perché ripeto lo notai in viola ma non solo dopo anche nei comandati della caserma dopo che conclusi tutto il mio percorso anche con il famoso capitano anche a me domandarono di rimanere io risposi che non era il mio compito quello di risolvere le cose che loro già avevano all'interno ti dico la verità solo pochini fa ho scoperto che dopo 20 anni se avessimo fatto film saremmo andati in pensione io non lo sapevo sì 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 il problema però qual è il problema è sapere se noi eravamo ancora qui perché quella era una caserma operativa da lì partivi direttamente in Afghanistan e nelle zone direttamente capito assolutamente 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 il problema era questo sì sì effettivamente era lì la cosa era lì che volevo arrivare insomma in quel momento lì non era dato così per scontato dire subito di sì dopo subentravano altri fattori insomma in quel momento lì io parlo per me avevo un sacco di progetti che dopo alla fine non ho guarda per dire infatti infatti mi interessa tantissimo anche il dopo comunque sì sì dimmi pure tu lo sai ti sintetizzo la mia vita insomma no cioè quando ho finito ho finito il militare ho viaggiato un po' e sono stato sul punto di salire in Canada su una nave di Greenpeace operativa sì non sono salito per lo stesso motivo posso dire per cui non ho fatto firma perché volevo continuare a fare altre esperienze altre altre avevo paura che questo fare firma e questo partire lì mi avrebbe portato in un senso unico in una unidirezionalità e basta insomma no ti dico la verità non per la seconda ma forse per la prima per quanto riguarda il servizio militare come hai detto tu eravamo operativi si rischiava di partire operazioni antimafia o afghanistan che andava bene le zone calde che c'erano allora erano zone calde ho capito che adesso la situazione è assolutamente per come la vedo io peggiore da quel punto di vista perché adesso se vai a fare le operazioni umanitarie insomma no cioè non era come allora insomma no no anzi allora era appena ti ricordi era appena caduto il muro di Berlino dico appena perché noi andammo là nel 97 neanche una decina d'anni ne erano passate e noi avevamo proprio gli alpini sono proprio storicamente i difensori dell'Italia dei confini quelli veri dell'Italia sono quelli e quindi quelli più preparati proprio questo è proprio tecnicamente così e i confini che poi era nata stava nascendo o era nata non mi ricordo l'Europa stavano venendo dismessi e noi eravamo in una situazione in cui ti ricordi e poi la Naya da lì a poco sapevamo che sarebbe svanita proprio perché non c'era più il pericolo proveniente da Est che parlarne adesso caduta del muro sa che la gente non si ricorda anche chi c'era in quegli anni del perché cadde il muro del fatto che cadde il muro di Berlino della Germania divisa in due neanche sanno perché la Germania era divisa in due io penso di la Naya obbligatoria stava finendo cioè negli anni 90 questo lo dico spesso negli anni 90 sembrava che ci fosse veramente la volontà di sentirsi meglio di come eravamo stati fino a quel momento quindi noi stavamo vivendo in quegli anni anche negli alpini in quel modo esatto c'era la volontà di essere migliori c'era un momento di forte evoluzione vabbè la sociopolitica e la geopolitica anche che c'era in quel momento lì era incredibile a dire poco incredibile io un altro aneddoto che volevo accenare insomma il fatto che lo sai andavo in montagna anche quando ero in licenza quando rimanevo lì insomma no? che partivo no? partivo in abiti civili logicamente io ti dico la verità e spesso sconfinavo adesso non parli più di sconfinare io vado spesso in montagna adesso che parto da una valata alpina tra virgolette italiana e sconfino nello stesso giorno in Svizzera data la vicinanza che ho e dopo rientro in Austria e alla fine ho sconfinato fuori dall'Europa solo in Svizzera però nessuno c'è a chiedermi un documento se in quel momento che stavo facendo il militare io militare sconfinavo in Austria che non era un paese europeo ancora come noi non lo eravamo tu eri tu eri in reato insomma un disertore eri un disertore insomma ecco dopo è capitato anche che andavamo andavamo era stato un gruppo molto molto ristretto insomma in abiti civili anche siamo riusciti ad andare sì sì però i confini stavano venendo dismesse ecco però c'era questa pospera è vero volevo far capire che c'era oggi al giorno d'oggi tu puoi arrivare io prendo il camper e me ne vado fino in svettia e nessuno mi chiederà un documento assolutamente ma non me lo chiedono neppure se vado in svizzera è una cosa ormai sarebbe anormale che ti chiedessero ecco eppure in quel momento lì non era così queste cose qua tu lo racconti lo racconto ai miei figli mia figlia più grande sta facendo scienze politiche all'università è già a buon punto insomma a metà strada quasi e gli racconto queste cose ma è fuori dalla mentalità di un giovane d'oggi insomma il fatto che sono cambiate che c'erano dei confini che c'erano dei confini che c'era un reale pericolo dall'est perché persino adesso non lo percepisci comunque che c'è un pericolo dall'est io mi ricordo un viaggio che avevo fatto avevo fatto prima del militare insomma fino in Slovacchia Slovacchia però ecco allora c'era la ceco-slovacchia ti sto parlando di anni 90 insomma c'era la ceco-slovacchia e già allora c'era la parte della dell'attuale Repubblica Ceca che era più ricca ma vedevi una differenza molto molto evidente fra la parte della della attuale Repubblica Ceca e l'attuale Repubblica Slovacca in Slovacchia attuale Slovacchia tu vedevi ancora girare i camion quelli quelli che si vedono nel film di di Rambo in Afghanistan dove ci sono i sovietici insomma no? sì sì ma quei camion lì con il muso particolare bombato ecco tu li vedevi tranquillamente in Slovacchia vedevi questi questi edifici molto soviet blocchi blocchi di cemento insomma no? e tu adesso non è più così ma se tu ti fermavi anche in quel periodo lì in Austria a Vienna c'era un retaggio incredibile c'erano delle infiltrazioni molto 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 evidenti di come si dice di di est hai capito? per forza cioè la cortina comunque arrivava a Germania cioè arrivava fino a noi la cortina di ferro arrivava fino a noi esatto esatto per forza tu partivi partivi da come chiami tu dal Tirolo come tu parli sempre insomma la regione storica del Tirolo io tra l'altro intendo non quella tua la regione storica piccola parentesi tu sai che sono appassionato pure di storia la parola Tirol ha un'origine molto molto antica probabilmente celtica insomma e vuol dire la terra fra i monti fra le montagne insomma è una denominazione geografica molto descrittiva ma fantastica sono quei nomi che questi nomi parlanti insomma che ti spiegano delle situazioni adesso dici Tirol Tirol è una regione un nome così insomma no sì sì però però appunto scusa piccola parentesi tu partivi dal Tirolo una regione che storicamente era legata è una terra di confine da sempre da sempre da sempre ecco ci passa dalla preistoria alla via dell'ambra ecco dopo sono passati tutti i popoli possibili immaginabili attraverso il Tirolo però tu partivi dal Tirolo andavi verso est tu ogni passetto che facevi verso est escludendo il Veneto ma già entrando in Friuli tu trovavi sempre più cortina come sì sì beh arrivava arrivava lì cioè arrivava fino a noi praticamente alla cortina di ferro che ci pesessero meno era così sì decisamente e tu hai accennato prima il fatto che dopo militare comunque hai viaggiato mi ricordo che tu allora noi ci siamo rivisti ci siamo risentiti dopo vent'anni da quei dal militare non sapevo che fine tu avessi fatto vigi ancora adesso non lo so per esempio l'avevi visto prima grazie anche a Facebook uno dei dei utilizzi più utili e pratici di Facebook era questo e ti ho ritrovato e tu mi raccontaste appunto che dopo militare tu andaste appunto a fare questo viaggio come hai accennato e sei tornato in Argentina mi hai detto hai fatto sì sì ho già dato avevi bisogno ti è venuto il bisogno appunto di fare questo viaggio sì sì ovvio allora se sintetizzo la mia vita insomma scusami sentirai c'è la gatta qua dietro che si è svegliata non ti preoccupare va bene va bene anzi sta bene insomma i gatti sono spesso protagonisti anche di questi incontri mancanza di attenzione questa insomma va benissimo se vuole partecipare anche lei ci siamo mi ricordo mi diceste appunto che tu facesti questo viaggio come mi stavi accennando che ti portava anche a dove sei adesso la vita che fai adesso infatti questa roba è molto bella io sono ti dico la verità sono in questo momento io sto lavorando da diversi anni ormai c'è un posto che mi permette di di stare bene nel fatto che io non ho grandi pretese economiche però sto bene riesco a portare avanti bene la mia famiglia senza alcuna devo aprire a perla scusami tanto eh prego prego se sarà questo è fatta così insomma no è praticamente sì mi permette anche di poter far studiare i miei ragazzi insomma ho tre figli fantastici insomma sono sposato con una donna straordinaria insomma che hai ritrovato durante questo viaggio che tu facesti la mia la mia vita familiare e nonostante perché ci sono sempre difficoltà problemi casini di solito vengono all'esterno i casini però questo momento mia moglie non c'è perché sta assistendo i suoi genitori in Argentina sto gestendo anche oltre tutto la 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 famiglia insomma un po' a distanza grazie al telefono stavolta devo dire che mi è utile insomma no continuo a lavorare insomma ho qualche problemuccio anche dal punto di vista fisico in questo ho avuto qualche disaventura insomma però posso dire che non ho mai perso la voglia di andare in montagna e non ho mai perso la voglia di girare sono sono un vagabondo incredibile insomma no e penso che qua viene fuori l'indole e anche che mi è stato trasmesso dal fatto che sono comunque un emigrante perché sono nato in Argentina che sono figlio di un emigrante che prima di arrivare lì è stato in Germania in Svizzera dopo è arrivato in Sud America e noi siamo tornati dall'Argentina io ero un ragazzino e da subito ho cominciato ad avere questa passione per il girare la passione per la natura ce l'ho da penso innata dalla nascita insomma ecco e dopo vabbè ho iniziato a viaggiare da subito tutte le occasioni che avevo di tirarmi insieme un soldino io riuscivo adesso scusa che chiudo la porta prego prego immagino faccia fresco si ha cominciato a rinfrescare devo dire stamattina finalmente è arrivato un po' di fresco insomma erano 5 gradi però è già sceso sotto 0 io abito a 1200 metri per chi sta ascoltando insomma è il paese dell'Alta Val di Non molto bello è un alto piano insomma abbiamo una bella vista montagne molto molto suggestive insomma la natura vedi che mi ha parlato anche l'ultima volta che ci siamo sentiti perché c'è chi vende letteralmente vende la natura a gente disposta a pagare tipo migliaia di euro per andare a fare un digital detoxing in mezzo a un bosco di una struttura ricettiva e basta dire questo perché il resto non ci perdo neanche tempo guarda perché mi interessa di più il tuo contatto con la natura e tu infatti prima hai accennato anche al fatto che adesso hai un lavoro che mentre invece hai avuto in questo in questo momento qua che è storico della fotografia insomma no sì insomma ecco tutto da 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 autodid vabbè forse si può dire non so se si può dire figlio d'arte il fatto che mio padre comunque mi ha trasmesso la parte la 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 parte didattica per quanto riguarda la lavorazione del legno che a sua volta aveva lui acquisito da dei suoi zii in Argentina che erano emigrati però questi zii erano comunque italiani uno lavorava pure la pietra insomma era uno scultore di abbastanza ridieo insomma no faceva parte anche di una di una cerchia di di artisti intellettuali che in Argentina stavano nascendo nel dopoguerra insomma no erano arrivati prima guerra sto parlando erano erano delle correnti parallele a quelle che si manifestavano anche qui da noi insomma in quegli anni sai erano delle chiamale avanguardie sono rimaste lì quello che sono perché l'ambiente lì geograficamente politicamente non era aperto a queste cose insomma in un altro paese penso che avrebbero avuto veramente un grande successo ai livelli di movimenti che ci sono stati qui in Europa insomma non so se ho reso l'idea comunque a parte se qua mi vedi che colpisci con la motosega questa immagine io ce l'ho proprio tatuata nel cervello perché quando ci ritrovammo questa fu una delle 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 prime foto che dividi anche capito e quindi questa cosa qua mi piacque mi divertì capito perché cacchio e stavi scolpendo perché non sapevo questo tuo lato quando eravamo nei militari cioè anche tu eri passato ad un concetto più non solo artistico ma ripetito la natura che era una cosa che anch'io avevo anche se nelle fotografie per carità anch'io mi perdevo nella natura ma tu proprio la rimodellavi rispettando in questo caso vedi l'albero stesso no questa cosa mi piace molto distanti ma comunque sempre simili anche nei decenni capito allora in tutto in tutto allora non è una mia citazione però qualcuno ha detto che per tirare fuori qualcosa bisogna togliere bisogna eliminare essenziale insomma se tu osservi assolutamente non ci si paragona minimamente ai grandissimi artisti che ci sono stati nel passato nella nostra bell'Italia insomma però se tu vedi certe statue ci sono anche adesso artisti fantastici insomma che lavorano la materia però cioè bisogna togliere bisogna rendere essenziale quello che in realtà già lo è no sì questo non era niente di che insomma assolutamente pensate che questo tronco qua insomma era un tronco che aveva la parte centrale completamente marcescente quindi sì sì quella statua c'è ancora però è destinata presto a mutare con il tempo nel modo però naturale vedi c'è comunque cioè tu non hai ucciso una pianta tu le hai ridato nuova forma nuova vita valorizzando appunto ciò che era quella pianta era già deperita completamente sì 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 però ma sì di queste cose ne ho fatte ne ho fatte parecchie insomma no però queste sono opere non so se lo sai ma vengono definite di land art quando tu utilizzi appunto la natura quello che c'è senza andare a a lederla anzi facendo l'esatto opposto quindi a farla risaltare a rispettarla questo qui altrimenti l'avrebbero sradicato tagliato perché stava già morendo tu gli hai dato una nuova forma e una nuova vita in un totem tra l'altro quindi ha un significato anche come lo definiva D'Averio lo definiva c'è proprio un termine che adoperava sciamanico quindi sì sì proprio il senso il senso è quello allora quando tu fai una cosa del genere ma lo puoi manifestare a me capita quando disegno io ho spesso in mano devi ce l'ho anche in questo momento qua una matita sì io ho a casa che dopo spesso finiscono il fuoco insomma ho spesso foglietti io continuo a schizzare mi viene in mente qualcosa le idee sono tante dopo il tempo per eseguire le idee è più ridotto più ristretto insomma sì anzi questo questo era il tuo questo era il tuo lavoro come mi dicesti a suo tempo quando ci ritrovammo questo era il tuo lavoro tu eri palegname realizzavi diverse queste erano cose di margine però a dire la verità insomma sì 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 lo so era queste qua sono altre cose infatti anche i letti dei tuoi figli no dei tuoi tre figli mi ricordo le avevi fatti tu solo che poi come sappiamo entrambi a un certo momento proprio appunto perché famiglia infatti ha detto adesso ho un lavoro che sì dopo tu hai in Italia mi tocca dire perché ti posso assicurare che è un problema molto radicato non ce l'hai fatta nonostante sei in una zona in cui il legno l'amore per il legno la cultura per il legno è molto radicata dopo dopo purtroppo è rientrato è rientrato un altro fattore che cioè non sto non mi sembra la 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 sede per per raccontarlo insomma però tu come vedi qua c'è c'è dell'intarsio c'è dell'intaglio c'è della fasi c'è 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 il disegno sì c'è un po' di tutto insomma però avrai visto che c'era tu hai detto questa questa immagine potente l'hai detto prima di me con la motosega ecco in questo momento in questo momento mio storico io non riesco più non riuscirò più presumibilmente probabilmente poter adoperare la motosega in quel modo lì insomma per una questione fisica insomma sì 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 cioè a parte un intaglio del genere così riesco ancora a farlo a manovrare però la motosega purtroppo per me non riesco più ad adoperarla quelle dimensioni sicuramente insomma però vabbè questa è una parentesi però la voglia di fare la voglia di fare il lavoro che faccio adesso mi permette di poter continuare a lavorare onestamente insomma no in questo momento sto facendo l'operaio io cerco di trasmettere comunque quello che so fare che l'operaio in un altro materiale come tu stesso mi dicesti perché però ti domandarono di andare a lavorare da loro proprio perché sapevi lavorare un materiale anche diverso come il legno questo mi ricordo che me lo dicesti l'unica cosa che io devo dirti la verità è provo una grande fatica in questo lavoro non per un fatto di fatica fisica è un fatto che tu se la hai imparato a lavorare una materia come il legno e prima ancora la carta ma se disegni o una tela va bene ok però soprattutto il legno quando tu impari a lavorare il legno il legno ti crea dipendenza il legno è vivo il legno è caldo esatto lo sto per dire io il materiale è vivo sì 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 io per esempio dopo lavoro mi sto sistemando una vecchia una vecchia sedia in questo momento è una vecchia sedia di famiglia fatta tra le altre cose da questi zii che hanno insegnato mio padre ad intagliare io ce l'ho qua in casa insomma la sto sistemando sai com'è il legno prende il tarlo prende si secca si disidrata insomma quindi è in uno stato abbastanza pietoso lo devo fare a tappe insomma no mi capita di dover fare dei pezzetti nuovi insomma no richiede il suo tempo anche da questo punto di vista e non puoi farlo in fretta ed è una cosa che in realtà presto sai ultimamente assolutamente però tu tu prendi questo pezzo di legno anche per fare una piccola riparazione un piccolo assemblaggio che ci fai tu stai dando forma anche se fai un piccolo cuglio di legno stai dando forma ad una materia che comunque è viva alla quale devi chiedere quasi il permesso di poterla adoperare e la devi adoperare in un determinato modo non è che se io c'è un pezzo di legno prendo un ciocchetto che è nella legna nella cadastra della legna da bruciare dico ah questo qua lo adopero per fare una no non esiste cioè non esiste così in un'industria forse esiste così che puoi fare qualsiasi cosa no esatto sì è una distinzione ottima esatto guarda qua per esempio è il perfetto esempio per far capire questo 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 esatto ecco queste queste panche qua sono di di larice no quando ho acquistato questo avventure disavventure di questo era per un ente pubblico anche sono di larice è un legno che praticamente è indistruttibile avevo fatto venire questo legno dalla segheria l'ho pagato anche abbastanza caro quando l'ho acquistato e dalle parti del tonale dopo l'ho fatto l'ho portato l'ho fatto portare in segheria e quando hanno tagliato longitudinalmente mi sono sentito telefonare da da quello della segheria molto arrabbiato perché aveva spaccato le lame della 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 multilame per il fatto che dentro questo legno c'erano le schegge pensate le schegge di guerra e delle bombe della 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 prima guerra insomma no hai capito le inglobate sì sì il legno le inglobate io c'ho ancora un pezzettino di 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 questo larice ce l'ho qua insomma mi fa d'altatina per una pianta insomma comunque ce l'ho ce l'ho qui in casa dove c'è dentro la scheggia e tu dici questo legno è sopravvissuto dopo è stato tagliato insomma è arrivato a me c'era un perché doveva arrivare a me quasi il legno ti parlerà sempre in questo momento ci ho appoggiato scusa il francesismo il culo sopra una sedia insomma è una sedia di legno e questa sedia qua mi sta trasmettendo la sua energia il suo calore assolutamente se io mi siedo sopra una panca di plastica o di ferro io ci devo mettere il cuscino lo faccio anch'io tra l'altro in modo più istintivo anch'io lo faccio molto interessante il legno non è così il legno ti trasmette e non tutti i legni ti trasmettono la stessa cosa perché ci sono anche dei legni che sono freddi insomma hanno un carattere molto particolare certi legni hanno un carattere incredibile un carattere incredibile curiosità mia che carattere ha l'olivo è una mia curiosità mi incuriosisce lo conosci come legno sì sì lo conosco lo conosco visto che stai sfogliando queste foto qua dal 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 il cirmolo il cirmolo che è ancora su facebook il nome sia io da tanto che non veramente non entro su facebook ci deve essere qualcosa su di 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 olivo anche insomma ecco vabbè l'olivo innanzitutto se lo lavori se lo intagli è profumatissimo è un legno che ti trasmette una una positività un'energia è un unguento per l'anima ecco è un unguento per l'anima assolutamente assolutamente e poi è una una pianta che penso che l'uomo ha domesticato sì l'ha reso forzatamente gregario ma in realtà è una pianta che secondo me è una pianta che sta bene da sola ha un carattere da scelta sai lo 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 vedi lo vedi anche quando ci sono quelle quelle antiche coltivazioni di quegli ulivetti un po' vecchi un po' antichi secolari sono meravigliosi i tronchi degli ulivi secolari io ho fatto delle fotografie bellissime ho delle fotografie bellissime fatte fatte in pulia fatte vicino al lago di garda insomma ci sono degli ulivetti molto belli in toscana però soprattutto soprattutto gli ulivetti quelli purtroppo malati anche che ci sono che c'erano in pulia tu non trovi non troverai mai un tronco di ulivo che assomiglia ad un altro bellissimo e lo capisci e più invecchiano e più sono un po' come mi viene ovviamente penso a Abruzzo sono un po' anche come i pastori abruzzesi perché sai che hanno la criniera più invecchiano più cambiano più io mi ricordo che incontrai il più anziano d'Abruzzo sulle montagne abruzzesi no Gran Sasso Monti della Laga quando ancora c'erano i cani guida che si muovevano fra i rifugi rifugi che purtroppo non ci sono più il più famoso di questi cani guida si chiamava Orso era un pastore abruzzese me l'avevi raccontato sì sì questo ho raccontato diverse volte era praticamente un era sembatico era un lupo era non era domesticato comandava lui ed era vecchio talmente vecchio davvero sembrava un leone con la criniera non so perché mi è venuta questa associazione l'olivo più invecchia più effettivamente anche lui acquisisce una forma che ha soltanto lui no è vero e dopo se ci hai fatto caso se cresce se cresce isolato che deve 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 crescere e trovarsi il suo spazio perché non è che si trova il suo spazio deve trovare il suo spazio no lui lui riesce a crescere con un portamento abbastanza regolare invece se è in compagnia di qualcun altro anche lui cerca la compagnia di un albero amico è uno specifico insomma uno stesso componente della sua specie assolutamente in una coltivazione in un uliveto però si avvicina a certi e a certi altri no si allontana è una questione di carattere assolutamente è una questione di carattere insomma anche gli alberi stanno bene con certi altri alberi non necessariamente alberi della stessa specie no è una questione di energia di la natura guarda gli alberi soprattutto però la natura se fosse avvicinarsi osservarla come dovrebbe essere osservata ci insegnerebbe un sacco di cose la natura intrinsecamente è inglobante io ho trovato abitati avvinghiati larici insieme ad abeti no l'abete per esempio è un albero molto sociale no cresce in popolazioni pure con tutta la tranquillità del mondo e ci sono invece certi chiamali elementi particolari che escono fuori dal branco dal grege per usare un termine animale esco si associano con alberi che non sono i suoi interspecifici perché perché stanno bene con qualcun altro no si ci insegnano una grande adesso si parla di inclusione di ci parla di digital detoxing si lo accennavo prima c'è gente che purtroppo vende a chi è disposto a pagare migliaia di euro quest'idea che se vado nel bosco potrò venere con sancezza no no allora questo un omaggio non voglio essere non voglio essere impattante in questo che dirò non voglio colpire nessuno però no no ma allora per andare innanzitutto le cose più belle della vita sono quelle che sono gratuite assolutamente andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza quindi Toro questo è un omaggio a un altro un altro un altro mi ha tanto un fotografo Mirko Irrigo ad ora Toro è andato a vivere nel bosco questo questo fotografo che guarda è una persona veramente che la pensa come noi è veramente in gamba e andare nel bosco perché volevo vivere con saggezza quindi no Toro cioè basterebbe comprare il come si chiama il libro vita nel bosco però vita nel bosco vita nei boschi Waden che è il nome del lago vabbè basta cioè costa un 4-5 euro non importa spendere chissà quanti soldi per credere che se vado una settimana nel bosco poi tornerò e avrò questo rispetto per la natura oppure sarò una persona migliore no cioè un percorso così lungo così lento come lo è la natura o ti appartiene oppure no non puoi hai parlato prima hai parlato prima di una cosa molto molto particolare insomma no hai detto che hai parlato del totem quando hai visto l'immagine fatta con la motosega insomma no eh sì questa foto questa mi piace perché queste foto le hai nominate insomma così e ci hai trovato una un nome attecatissimo per ognuna di esse insomma spieghiamo bene allora quello che dicevo prima insomma no sì 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 insomma per concludere quello che ti stavo dicendo prima insomma no allora per andare in natura innanzitutto è una è l'attività meno se vai in natura deve essere sicuramente gratuita deve essere poco impattante la maggior parte della gente che va in natura adesso dice di vivere nella natura ma no 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 non vive assolutamente insomma è più moda è più moda pensa che qualche giorno fa parlavo del fatto di come persino i nerd sono diventati moda ma adesso mentre parlo con te mi rendo conto è moda cioè non c'è contatto non c'è contatto non c'è contatto non c'è contatto io a me capita quasi quotidianamente di vedere delle cose che non succedevano anni fa i primi tempi mi scandalizzavo moltissimo adesso dico poveri loro insomma a me capita sia nei viaggi allora tu puoi fare anche un viaggio puoi andare in montagna da voler fare un'escursione voler cercare di imitare un alpinista un escursionista bravo però devi fare le cose per te stesso non devi cercare innanzitutto né di imitare né di emulare nessuno tu parlavi del totem prima ti deve appartenere ti deve appartenere io vedo gente che se ne va in montagna anche magari con fisico allenato non è quello ma a tutti i costi devono arrivare alla meta che si sono prefissi che sia la vita che sia non consapevole del fatto che non sei tu a decidere ma è la strada che stai percorrendo il sentiero che stai percorrendo e il clima il tempo la natura attorno a te decide non tu se quel giorno ci sono tuoni e fulmini tu sulla vetta non ci vai se anche senti un tuono da lontano torni immediatamente indietro te ne vai al primo rifugio che inconti ti fanno una bella bevuta e ti coni il panorama invece la gente ha questo concetto del tutto in realtà industriale consumistico la fretta se arrivano là no è una meta che mi sono prefisso lo devo fare no non devi farlo lo puoi fare ma la scelta che ti rende in realtà una persona consapevole è che lo puoi fare ma se non puoi farlo non lo fai e invece no questa cosa che stai dicendo è quella lo stai dicendo nel migliore dei modi io non ci sarei riuscito guarda per esempio se vuoi stai scorrendo queste foto si ricorda delle foto perché tu mi dicesti qualche giorno fa che la fotografia per te è proprio raccogliere quell'esperienza tenere quell'esperienza con te del viaggio quando ci incontrammo io notai che tu avevi queste foto e dici ma Martino sai che la tua fotografia che anch'io avevo cominciato a fare foto avevo scoperto che la fotografia era il mio linguaggio dopo un percorso di scultura vedi anch'io anche se di materiali leggeri pittura e queste cose qua ho scoperto che la fotografia era il mio linguaggio quando ti ritrovo dopo vent'anni scopro che è anche il tuo linguaggio ma non lo sapevi e allora abbiamo lavorato insieme abbiamo collaborato insieme creato un progetto insieme che abbiamo creato Band of Brothers nel modo più arrogante ma è così Band of Brothers quindi con foto tue foto mie io te le ho editate e ha il carattere di entrambi cioè queste foto qua hanno il carattere di entrambi c'è poco da fare capito tu prima scusa che ti interrompo parlavi dell'arte sciamanica ecco tu hai detto era da verio che lo definiva così ma è così l'arte è sciamanica sì sì ma l'arte è sciamanica è sciamanica è una forma di elevazione è una forma di come si dice è un'intuizione proprio sciamanica un percorso un percorso mentale spirituale anche fisico a volte perché quando tu fai qualcosa non è magari il caso della fotografia la fotografia forse sì perché se vai anche a percepire certi ambienti cercare certe situazioni devi comunque se tu per esempio qui c'è tantissimo Ansel Adams io te lo devo dire te le ho editate io ma vedendo c'è tantissimo Ansel Adams qua vabbè scusami no no assolutamente sei tu poi aspetta che faccio anche perché altrimenti non si capisce cosa guardiamo e perché sul sito di Vogue perché Vogue ha un progetto chiamato PhotoVogue con una selezione veramente durissima da superare e ci mettiamo in gioco così in modo di tutto naturale io disse Martin posso fare un esperimento io te ne voglio editare e poi voglio provare a darle allora c'era anche il National Geographic Your Shot che purtroppo una volta che è stato inglobato da Disney quel progetto è morto ed era quello che più ci somigliava che più probabilmente io ci stavo anche cominciando a collaborare con National Geographic però è arrivata la Disney non esiste più mentre invece questo esiste ancora e infatti vennero prese perché c'è questo concetto in ogni foto che ti ho detto è un voler raccogliere quell'esperienza del viaggio cioè le tue fotografie sono queste capito e cavolo se c'è basta semplicemente editarle per dargli esattamente la forma guarda questa cioè capisci quello che ti dicevo prima il nostro amico Mirko il rigo fotografo anche lui che vive nel bosco anche lui ha questo genere di fotografia so che apprezzerà quindi c'è tanto di te in queste immagini c'è tantissimo mi stai facendo un complimento Alessandro è instagrammabile lo è ma senza volerlo essere perché non è cacofonica come quelle di instagram non fanno queste foto qua capito la gente non questo da partire no no ma allora ascolta scusami se offenderò qualcuno però allora una foto per più bella che sia fatta in un determinato modo con un drone anche non è fotografia assolutamente dipende chi li adopera mi viene da dire capito dipende però non è che se compro il drone se compro la macchina da 6.000 euro addirittura da 60.000 automaticamente mi farà delle belle foto così come spesso purtroppo ultimamente lo dico spesso a diversi che incrocio non è che se prendi una bella ragazza automaticamente la foto che le farà e sarà una bella foto è bella la ragazza assolutamente qui vedi è bello l'uccellino in questo caso ma cavolo hai beccato c'è tutto il tuo carattere in questa foto per esempio e non mi ricordo perché questa era una foto mi ricordo comunque dalla bassa risoluzione forse fatta con un cellulare o con una vecchia macchina fotografica una vecchia macchina sì una vecchia macchina però c'è tutto cioè non importa con cosa scatti infatti era per questo che era bello il progetto del National Geographic EuroShot perché avevano appunto questa indole qua ma queste però non sono su EuroShot sono su Vogue io ti dico che fra queste fotografie che hai sfogliato ci sono delle tecniche chiamarle così delle esperienze degli esperimenti abbastanza singolari no? di fotografie fate appoggiandoci delle lenti esterne all'obiettivo della macchina sì ci sono delle delle particolarità in certe foto insomma no? ecco questa è la Patagonia? no questo no prego questa è la Patagonia o no mi sto sbagliando no queste qua è nelle isole Canarie ah ok ok questo è nelle isole Canarie questo qua e quella dopo era una una mattinata molto fredda qua erano meno 17 meno 17 come facevano una volta insomma no? in questi periodi insomma no? è qua vicino a casa mia questo qua non è lontanissimo questa qua è un viaggio vicino insomma no? dopo hai hai sfogliato fotografie qua che c'era infatti la Patagonia c'era il Nord America ah sì i tuoi viaggi che identificano chi sei no? proprio perché anche le metri che hai scelto e te le sei portate a casa con questi scatti che vedi questa anche questa il Nord Europa questa qua vedi anche questa non è la classica foto se vogliamo andare sul tecnicismo senza che io lo voglia essere instagrammabile no? come piace tanto per colpire la gente e quindi togliere la lacuna della propria autostima perché in questo modo ti mettono in MPA no questa è una foto è una che rende perfettamente quanto ti appartenga a questo questo luogo c'è anche vedi probabilmente questo qua è un uccellino che sta volando o una mosca adesso è un uccellino è un uccellino ha un insetto e non è una foto che effettivamente la gente verrebbe in mente di fare perché ovviamente però vedi come è interessante anche valutare questa cosa qua è sul progetto Photovogue quindi è stata selezionata da gente che di fotografia quella vera fammi essere un ottimo arrogantello in questo la riconosce capito come era anche il progetto Your Shot quindi non tutte quelle realtà invece autoreferenziali ce ne sono troppe adesso e rende effettivamente questa una fotografia proprio perché ti appartiene viene da dentro di te non da fuori perché quel luogo lì in cui eri ti appartiene capito prima ancora che tu scatti con l'immagine non lo insegni in una settimana nel bosco capisci scusa no 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 è questo che ti volevo dire sto provando a dirtelo che cioè di nuovo questo 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 sciamane tu vai nel bosco lo sciamanesimo ti viene naturale perché tu ti perdi tu ti perdi in quella dimensione lì però non ci deve essere necessariamente qualcuno che ti guidi in questa esperienza al giorno d'oggi vanno molto di moda vanno molto di moda tutti questi guru no tutti questi grandi insegnanti da zero che ti insegnano una disciplina una dottrina no no non funziona così non funziona così tu devi è come quando cerchi da un tronco di tirare fuori quel gufetto o quel gnometto no il gnomo c'era già dentro e questa cosa anche in una fotografia ce la devi aver dentro tu devi tirarla fuori da te devi stare ad aspettare come in quella foto lì del raggio di sole il momento giusto aspettarlo no questa qua l'hai nominata tu solstizio solstizio ah sì è vero che poi i titoli sì li hai messi tu insomma no è azzeccatissimo è azzeccatissimo perché era era veramente io normalmente i giorni questi giorni chiave dell'anno a modo mio li festeggio non sto facendo cose strane rituali che assolutamente celtici no assolutamente io al giorno d'oggi sento parlare che la gente va a fare questi matrimoni celtici queste esperienze ma no 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 conosco bene questa cosa sai che ho lavorato per un po' con la casettrice di Celtica ti ho fatto avere anche i numeri sì ci sta ci sta benissimo fare una una festa folcloristica una riavocazione storica fantastica le frequento e mi piacciono una festa dove c'è una bella musica che ti faccia ricordare le tue possibili origini le tue tradizioni anche ci stanno però tu non mi devi parlare al giorno d'oggi tu puoi andare tranquillamente in un bosco anche sposarti con una donna e unirti assolutamente interpretalo come vuoi però non mi venire a dire che devi essere seguito da un sacerdote celtico come ci sono adesso o tutti questi che ti fanno passare che sono esperti di qualcosa perfetto questo era il druidismo che già sappiamo ben poco del druidismo come puoi saperne capito però però un antico un antico cioè nell'antichità un essere umano qualsiasi guardando se torni a quella di prima la strega ecco vedi questa questa qua dentro in questo albero secco non è che sembra che c'è qui dentro c'è la strega c'è la donna c'è quest'albero qua è molto femminile capisci c'è dentro femminile la natura è femminile qui potremmo parlare per ore e ore cioè il concetto di sacro l'archetipo del sacro femminile madre natura è sempre stato così poi ma qua e come hai detto tu prima tornando indietro è tutto collegabile qua insomma e lo sai molto bene Alessandro no c'è tu puoi vedere una bellissima ragazza e dici sì magari la bella foto viene fuori perché la ragazza è bella ma non vuol dire che hai fatto una bella foto esatto c'è molta confusione vedi è interessante infatti anche come concetto cioè tu pensi che hai fatto una bella foto perché hai fotografato una bella ragazza come mai non riesci a vedere che è bella la ragazza ma non è bella la foto perché funziona anche al contrario cos'è che ti blocca dal non vedere che non è una bella foto quella che hai fatto non c'è cioè non è una fotografia non è neanche un ritratto però molto spesso ti dicono è ma un nudo artistico ecco quindi hai già detto perché hai voluto fotografare quella ragazza ma un nudo artistico è un'altra cosa tra l'altro abbiamo avuto anche un esempio quest'anno anche col premio Cascella dove secondo me un nudo artistico tra le foto che c'erano era una ma non era l'altra ragionandoci poi alcuni che erano più colpiti dall'altra quella più evidente dovrei farti rivedere per farti capire cosa intendo hanno capito che effettivamente il nudo artistico era quell'altro che non era meno non è il termine adatto era meno diretto mettiamolo così per non adoperare altri termini insomma invece la donna per esempio molto spesso te la mettono in posizioni del tutto innaturali che una donna non avrebbe mai e già lì perdi completamente il concetto del ritratto non stai fotografando la persona che è di fronte tu non sai neanche chi è e una volta questa cosa qua la vedevi nei quadri dei grandi artisti insomma ok lascia perdere il fatto che ogni epoca storica ha una motivazione storica sul motivo della rappresentazione di un abbigliamento di un modello estetico insomma no ecco però per essere artistico ci deve essere la naturalità della della immagine ecco vedi per esempio questa qua è una qua in Patagonia è una una balena franca australe la parentesi fra le è la stessa specie che ha ispirato Moby Dick no e te lo spiego per che motivo perché infatti c'è un'altra fotografia che non so se ce l'hai qua insomma che avevo fatto in sequenza questa però non lo so non penso che sia qua nel portfondo perché queste sono in la sequenza delle loro selezioni però dopo questa foto ero riuscito perché questa qua è una femmina quella che è fotografata lì è una femmina di balena franca australe e in seguito c'era il piccolo no il piccolo è completamente bianco e quando è ecco e e questa è il motivo sia quando è stato scritto Moby Dick l'ispirazione sul colore di di Moby Dick è il piccolo della balena franca scusa il giro di parole no 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 anzi anzi ecco molto 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 è un ritorno a casa poi questo questo genere di di chiacchierate di ragionamenti di concetti soprattutto che tu fra poco devi devi andare via quindi fa vedere se vuoi una ancora venti minuti non 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 c'è problema va bene va benissimo perché sempre piacevole ed è veramente un un ritorno a casa come ti ho detto quindi ma queste queste fotografie che mi stai facendo vedere sono per me un sono cose queste fotografie sono abbastanza quotidiane per me insomma no io frequento il bello il bello è che in queste fotografie tue abbiamo unito quello che siamo entrambi che hanno ovviamente parte della stessa radice c'è poco da fare radice è un tuttuno cioè queste fotografie siamo sia io che te capito in un abbraccio in un certo senso io te le ho ditate tu le hai scattate e poi le abbiamo messe qua su perché era divertente vedere se effettivamente è potevano essere fotografie non che magari progetti come questo lo possono dire oppure no ma senz'altro lo possono le possono definire meglio di altri perché c'è cioè sanno che cosa stanno guardando e infatti ce ne sono tante anche qua su no c'ho anch'io la mia pagina ma queste qui le abbiamo fatte insieme cioè questo è letteralmente un ritrovarci poi è diventato un progetto che tra l'altro spera che ce l'ho qui perché ho dopo le rimetto eccolo va vedi ce l'avevo qua anch'io sotto mano era lì che buttavo gli occhi ogni tanto insomma la copertina è la tua poi ci sono anche le mie foto dove ci sono sia le tue foto che le mie bianche e nere a colori è stato anche divertente parlo su tua idea tra l'altro proprio per lasciare qualcosa prima 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 io ti dico la verità a livello grafico se si può dire così mi limitavo cioè la fotografia ho sempre avuto prima la macchina una macchina vecchissima di mio padre che ho imparato ad usare di quelle che procedevi a mano insomma no sai si 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 l'arco insomma no ecco dopo ho cominciato con le prime piccole compatte e dopo gradualmente sì queste sono comunque macchine fatte con con una reflex esperimentando più o meno insomma no sono tutte foto comunque mi preme dirlo abbastanza naturali per il fatto che non ci sono assolutamente sono scatti sono la parola giusta sono scatti no sì dopo se mi attendi un secondo ti volevo far vedere cosa ne pensi di uno scatto fatto differentemente in un modo più tradizionale ce l'ho qua niente ci sono due cose che volevo far vedere vai vai siamo qua perché tu mi hai nominato il fatto di approfittare anche del fatto che c'hai un materiale e approfittare della materia che hai no ah ah sì sono delle cose che faccio io faccio parecchie cose per me anche perché mi piace farle insomma sì sì beh ma anzi dovrebbe essere la base di tutto qui magari a livello artistico non c'è niente però a livello mio personale dell'esperienza che c'è dietro esperienza intendo quello che ho provato nel fatto del ritrovare questo materiale e poi ridargli vita mi piace per esempio io recupero a volte dei legni vecchi che siano travi che siano le 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 nostre vecchie tegole che c'erano nelle vecchie baite di montagna si chiamano scandole no è una tecnica che perdurata fino a poco tempo fa ci spacca il legno di larice invece che tagliarlo con una sega sono delle tegole straordinarie che si mettono sormontandole ho avuto il piacere anche di di creare questi tetti insomma no è da nuovo sono riuscito a recuperare quello che vedrai sono delle tegole dipinte poi da me e approfittando delle venature ho cercato di creare il paesaggio un paesaggio esistente veramente però seguendo le venature aiutato dalle venature di questo legno di queste spaccature sono riuscito a fare quello che vedrai insomma volevo che mi commentassi questo insomma ecco pensa che la materia prima il materiale l'ho trovato buttato in queste baite di roccate hanno 400 500 anni certe queste assi che ci sono ecco si 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 riesci a a vedere la luce e quella che è così queste sono le torri del violet no stelle alpine si si con le stelle alpine e l'ho fatto double face perché dall'altra parte le torri del violet sono così e lo stesso bello paesaggio insomma ecco io ho creato questo ecco mi premeva a far capire quello che dicevi tu prima si si e questo paesaggio io l'ho trovato l'ho visto però l'ho trovato dentro già quest'asse era lo specchio in natura di quello che ecco questa è la cosa straordinaria del materiale naturale che ti dicevo del legno nel legno ci puoi trovare tutto insomma ma è bello anche il modo che hai poi di di lavorare perché come detto è appunto sciamanico è personale quindi ci metti veramente non solo ah si ok si si il ghiacciaio questo ecco questo è il ghiacciaio dell'Alec no si si qua se vedi qua in questo punto qua allora è molto fotografico insomma la rappresentazione è proprio realistica però qua in questo se tu vedi questa parte qua si che dopo continua la venatura io ho adoperato la venatura naturale del legno no si si c'è una curva naturale in questa tegola un difetto insomma dell'asse si si e tu l'hai utilizzata mantieni comunque si l'anima stessa di ciò che hai in mano tu la la utilizzi io non ti sto dicendo che qui ci sia una ricerca artistica assolutamente c'è non non sto pretendendo questo guarda sai che allora ti volevo far capire questa cosa il discorso è proprio la parola arte artistico che ultimamente sto rivalutando come usarla e quando usarla perché ha sempre quel pretenzioso dietro e comunica sempre qualcosa di diverso in chi l'ascolta soprattutto in chi non è addentro a questi a questi argomenti quindi bene o male quindi ultimamente mi sto riferendo agli autori di opere d'arte come gli autori in questo preciso caso però secondo me c'è una qualcosa di fondamentale che ha a che fare con con l'arte con le opere d'arte e che ti rende quello che D'Averio definiva un frammento di coscienza cioè D'Averio definiva veramente che aveva questi dialoghi nell'area sciamanica come la definiva lui i veri artisti lui definiva frammenti di coscienza perché anche lui non riusciva ad operare il termine artista perché si confonde con chi viene venduto come artista o chi si crede artista rispetto invece a chi veramente comunica e crea nell'area sciamanica mi rifaccio appunto a questo suo ragionamento anche perché è molto vivo in questo periodo perché è stato il tema del primo cascella di quest'anno frammenti di coscienza mi piaceva indagare questa cosa e proprio perché tu rientri in questo creare nell'area sciamanica quindi tu sei un frammento se è un frammento di coscienza quindi qua la definizione parola giusta coscienza coscienza hai detto la parola giusta coscienza e allora io non mi ricordo se effettivamente daverio aveva fatto un documentario proprio che riguardava anche San Francesco insomma c'è la parte non so se ce l'hai presente ma ne ha fatto anche uno da quelle parti che riguardava proprio la rendarte e la natura ce ne sono diversi di suoi tutti fantastici insomma assolutamente San Francesco comunque e aveva usato una citazione proprio che si presume sia di Francesco D'Assisi no e che diceva che se tu lavori con le mani sei un un operaio se tu lavori con le mani e con la testa sei un artigiano e se tu lavori con le mani con la testa e con il cuore sei per forte un artista no ed è così cioè storicamente è anche storicamente così coscientemente hai nominato la coscienza è così se tu ci metti c'è effettivamente questo no questo dare tutto te stesso in quello che fai no se tu ci metti questa grande passione che scaturisce dalla parte più intrinseca del tuo essere assolutamente sei un artista sei un artista e se ti viene naturale comunicare in quel modo e nel modo più naturale arriva che di fronte vedi le foto appunto che stavamo guardando queste foto cioè era un mettersi in gioco anche in quel senso se è arrivato l'attenzione a suo tempo sia di di National Geographic più rosciote uno potrebbe pensare beh ovviamente perché non conosce questi ambienti ma foto vogue vogue non l'associa queste immagini no ma è comunque composto da gente che sa cos'è la fotografia quindi si è riuscito a comunicare queste cose e ripeto rimanda senza altro d'Ansel Adams alla storia della fotografia di questo genere di ambienti ma è fotografia cioè è fotografia nel senso più puro cioè esprimere se stessi capito quindi è molto interessante questa cosa qua perché c'è in ogni singolo scatto così come anche nelle altre cose che crei in automatico c'è questo esprimere te stesso tu le crei nell'area sciamanica come direbbe un Davea io capito in base e questo ti rende effettivamente appunto come diceva San Francesco un artista perché non puoi fare altrimenti non ricerchi questo genere di comunicazione non è nel piano nel piano per quello che ti dicevo non è nel piano artistico ma lo puoi collegare a quello che si diceva prima del dello stare in contatto con la natura dello stare in contatto con quello che assolutamente c'è chi paga per andare in natura e sì non lo so sperando di uscirne quello infatti è il ragionamento opposto io pago in quel caso vado nella natura perché voglio diventare una realtà sciamanica no o ce l'hai o non ce l'hai non è detto che vada nella natura e poi torni cioè se non ti appartiene non ti appartiene assolutamente anche perché ti ripeto al giorno d'oggi tutti vogliono fare i professori guru anche gli artisti come dicevamo prima sì se ci fossero tutti questi guru veri voglio dire io penso che il mondo sarebbe leggermente migliore di quello che è adesso eh sì bellissimo e se e se ci fosse veramente più arte e più rispetto per l'arte il mondo sarebbe veramente un luogo più pacifico più amorevole assolutamente questo posso posso essere assolutamente assolutamente sicuro di questo e pienamente d'accordo infatti ecco io ti faccio un altro esempio buttato lì guarda buttato lì sono a me piace moltissimo la tranquillità della natura lo sai molto bene questa questo modo di ascettismo sicuramente è quello che più amo però mi piace anche frequentare dei luoghi magari dove c'è affolamento ma in un museo per esempio un museo d'arte dove trovo dei capolavori io riesco tranquillamente ad isolarmi e trovarmi da solo davanti ad un'opera sono 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 luoghi i luoghi dove c'è dell'arte che sia un tempio una chiesa un palazzo un castello affrescato una sala un museo una collezione d'arte una mostra dove tu se trovi veramente la dimensione artistica tu riesci tranquillamente possono esserci migliaia di persone intorno a te e tu riesci a trovare questa questa dimensione di tranquillità ascetica assolutamente è una cosa però che ti deve venire fuori da dentro assolutamente al giorno d'oggi fa parte della consapevolezza del sapere chi sia o comunque del volersi conoscere tu comprendi se queste cose ti appartengono la natura l'arte tutto ciò di cui parliamo solo se effettivamente hai fatto un percorso di tutto personale noi abbiamo avuto un catalizzatore senza altro che è stato senza altro a fare l'alpini ma non è che uno deve per forza andare a fare assolutamente o esperienze estreme per riuscire a capire chi è no ognuno ha il proprio percorso il proprio viaggio no 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 devi c'è chi è più dotato chi meno insomma devi essere predisposto sicuramente dopo come ti dicevo sembra che ce l'abbia su con qualcuno non è così no no sono completamente indifferente no però al giorno d'oggi è tutto tutto quanto è accessibile a tutti a tutti ecco però ti dico che tutti viaggiano senza viaggiare davvero tutti riescono ad andare in montagna senza andare in montagna vanno davanti al mare vanno al mare però nessuno percepisce la bellezza che c'è davanti ad un mare in tempesta un mare calmo un mare ondeggiante ed è così in montagna è così in mezzo a una campagna si idealizza si idealizza fino addirittura in alcuni casi estremi diventa addirittura una moda però vedi quello già è una moda per esempio ti faccio anche tu hai un camper ti permette anche di spostarti anche con tutta la tua famiglia comunque in comodità nel viaggiare adesso tu però l'hai preso prima che andasse di moda quella che adesso chiamano la van life vedi come diventa assolutamente questa qua assolutamente non è no allora Alessandro anche quello è un bene un male cioè nel senso mi fa piacere che esista e che abbiano sdoganato questa cosa del viaggiare e vivere in camper perché io conoscevo persone prima che diventasse di moda che viaggiavano e vivevano in camper ma proprio il fatto che era prima che diventasse di moda li rende esperienze soprattutto personali ed erano singole certo ed erano persone molto 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 interessanti c'era anche una ragazza che poi ha anche fotografato a suo tempo che viveva qui a Ferrara e viveva in camper e non lo faceva per moda perché non andava di moda non esistevano gli attivi digitali non capito io ti faccio è una provocazione questa quasi per qualcuno non è per te insomma assolutamente però è una provocazione che sicuramente potrebbe toccare qualcuno se tu apri qualsiasi social anche youtube vedi tutti questi video e dici ok ma se tu non stai facendo questa cosa per te la stai facendo perché vuoi ricavarci qualcosa da questa cosa qua vuoi mostrarci agli altri tu non stai godendo il tuo momento la tua esperienza no eh sì qualche tempo fa ero con i miei figli sul treno per andare a Firenze no e e c'erano tre ragazze che si stavano sistemando queste qua volevano andare su a piazzale Michelangelo perché era il punto più instagramabile di Firenze erano partite erano partite da da Trento sai tu ascolti nel treno quando parla qualcuno a volte ti tocca ascoltare ti tocca sentire e loro si stavano recando a Firenze per fare la foto instagramabile e dopo risalivano sul treno e tornavano a casa ma stai scherzando cioè questo è viaggiare io mi chiedo questo è viaggiare oppure vai in cima a una montagna dove c'è una solitudine incredibile no e tiri fuori dal tuo zaino un drone perché dopo vuoi postare a qualcun altro quello che hai visto da quella montagna che non è quello che hai visto tu perché non è quello che hai percepito attraverso l'unico filtro magari di una macchina fotografica lo scatto quello scatto no dove sei in quel momento sì interessante riflessione hai preso come alla vecchia maniera uno schizzo sul tuo quaderno se hai dentro lo zaino comunque è il punto di vista di dove sei in quel momento anche se tu scatteresti la foto è vero è molto interessante come ragionamento un drone non vedrà mai quello che stai vedendo tu in quel momento questo che ti ho fatto vedere prima molto interessante sì sì ti faccio vedere c'è dietro una storia perché prima io questo quadro chiamalo così l'ho copiato da una fotografia che ho fatto io che ho scattato io non era una fotografia artistica assolutamente non ha nessuna pretesa però è lo scatto che ho vissuto io è quello che ho visto io sì sì ecco perché io devo andare da qualche parte perché qualcun altro mi sta influenzando mi sta ecco perché ecco perché devo farlo sì anche perché non proverò mai le stesse sensazioni che mi dà un video che è stato montato ad hoc perché mentre parlavi mi veniva anche in mente il drone effettivamente il drone non vede come sto vedendo io ma allora perché adoperarlo perché mi crea dei video molto cinematografici quindi mentre guardiamo questi video molto spesso c'è quella che viene praticamente definita la sospensione dell'incredudità perché tu vedi questi paesaggi ti immedesimi magari con chi stai guardando ma effettivamente ci pensavo mentre parlavo con te adesso ma non sta volando cioè forse con il suo parapendio ok interessante con la sua videocamera ok è la sua esperienza ma stai semplicemente riprendendo un panorama però la sospensione dell'incredudità dove sta perché ho definito questa cosa qui perché mentre guardi il video dai per scontato che quelli siano i suoi occhi lo stai guardando con i suoi occhi invece così non è è molto interessante e tratto questa cosa del drone mi ricorda che anch'io sono dato come non lo facevo da un po' di anni il giorno di mio compleanno per me era un diritto andare al campo imperatore giù in Abruzzo ci sono tornato quest'anno non c'erano mandrie però improvvisamente vedo appunto come ti ho detto un uccello molto strano che volava in modo strano allora piglio la Fuji 30x per vedere che cavolo è per zoomare velocemente e poi prima di zoomare sento il rumore che era e infatti in modo in cui volava ed era un drone che nei parchi naturali non puoi utilizzarlo se non su richiesta poi magari la richiesta ce l'avevano non lo so tutto sommato non è quello del punto subito dopo vedo un macchinino blu che fa era il punto più panoramico guarda caso di campo imperatore con il laghetto la cima del gran sasso le nuvole c'erano delle bellissime nuvole quel giorno vedi questa macchinina blu col drone davanti quindi probabilmente erano in due spero per lui perché adesso perché ci sono anche le app che autoregolano però uno guidava il drone l'altro guidava la macchina ed è esattamente come dici tu non solo non ti stavi godendo il panorama ma eri pure distratto alla guida in teoria perché devi essere che devi guidare perché cinematograficamente stai recitando e non dico che siano tutti così perché ce ne sono invece alcuni che effettivamente lo capisci quando sono è proprio il loro modo di comunicare questa cosa allora io ti faccio un altro esempio Alessandro a me capita di fare vabbè un archivio visto che hai nominato la fotografia un archivio fotografico incredibile però molte delle mie fotografie sono fatte semplicemente anche per un interesse mio naturalistico per esempio mi capita di fotografare il particolare di una folia perché c'è su un fungo un parassita della pianta o mi trovo di trovare naturalmente un animale morto una traccia ci faccio la fotografia è un documento è una documentazione il drone non ha neanche questa pretesa perché non è che vedi il mondo come veramente lo potrebbero vedere i tuoi occhi è un'altra prospettiva assolutamente non è neanche una foto scientifica se io devo vedere come il paesaggio dall'alto io non mi fiderei di una foto o una visuale fatta con un drone preferisco cercare una mappa satellitare che mi dà una visione ora come ora l'unico scopo per cui viene utilizzato così massivamente è appunto per fare video che poi sono instagrammabili youtubeabili facebookabili sì è un'amplificazione del colmare una qualche mancanza di autostimo a cose simili che molti hanno però anche in questi per fortuna mi viene da dire vedi solo quei pochi che veramente è il loro linguaggio e che sanno comunque utilizzare quello strumento per descrivere anche il loro mondo ne vedi veramente pochi e per concludere un'altra cosa che hai nominato prima riguardo il van life no? sì adesso la chiamano così vedi come nascono qualche anno fa li chiamavano nativi digitali adesso è proprio diventato la van life certe forme che chiamano green no? in realtà di green non hanno niente perché se tu vai con un camper no? innanzitutto cioè se tu fai le cose chiamiamole legalmente no? sì sì in pochi luoghi d'Europa soprattutto tu puoi potresti fare legalmente quello che vedi nei diversi video cioè sì è vero se la vediamo dal punto di vista legale è così è vero è vero è vero è vero e io mi chiedo una cosa no? io mi chiedo una cosa tutta questa gente no? che vuole vivere a contatto con la natura ma la rispetta veramente la natura è quello che ti devo alcuni di loro anche se non tutti e lo capisci sì altri no altri lo vedi che appunto sono moda solo per vedere che viaggiano il mondo eh sì tra l'altro anche di questa cosa del viaggio noto come molti per qualche oscuro motivo e si ricollega anche all'incorso della Van Life perché alcuni vedono che lo fanno sentono il disperato bisogno di andare in quei territori pericolosi ora io non sto dicendo che uno non debba farlo però non sei un giornalista non vai là per documentare la situazione che hanno e quindi cercare di far riflettere il mondo sulle difficoltà non solo che abbiamo a casa nostra ma soprattutto che hanno in quelle terre non vai là per quello perché va là per mettere per mettere in il gioco te stesso in una situazione di difficoltà che però non è la tua perché comunque male che va ambasciata italiana te le torno in Italia se ti va bene perché poi ci sono alcuni territori in cui non basta neanche la ambasciata italiana come ben sappiamo assolutamente questa roba qui eccede ancora prima della Van Life non la capirò mai che bisogno hai di andare senza neanche conoscere completamente la storia di quel territorio mi è capitato anche poco tempo fa questo è proprio una roba semplice semplice parlavo con due persone state in vacanza in Egitto Egitto ho detto io insomma in particolare in questo periodo però Egitto no no ma ho trovato della gente nei posti turistici ovviamente trovi però cerca quando vai in questo territorio è anche un semplice per il regolito Egitto di capire come le situazioni attuali come ci sono arrivati perché ci sono delle difficoltà come può essere la Cina come può essere qualcuno anche la Corea del Nord capisci cosa intendo perché è molto spesso è un motivo molto egoistico perché non vai là ripeto per documentare o comprendere perché alcuni sì sono sempre la rarità ed effettivamente per un motivo documentaristico per informare il mondo ma ci sta ci sta Alessandro anche come turista che hai la passione o il gusto di un determinato tipo di paesaggio da vedere di realtà da vedere non di situazione geopolitica esatto non ti vai a infilare nei casini che non sono però anche per quanto riguarda il paesaggio mi è capitato mi è capitato qualche settimana paesaggio sì ci sta completamente forse te l'avevo raccontata proprio telefonicamente mi è capitato che mi hanno chiesto dei consigli per un viaggio in un luogo che ho visitato dei consigli ah sì insomma questo ragazzo bravissima persona non dico niente però sì ho visto questo su Instagram ho visto questo su Instagram ho visto questo ecco io non ho detto niente non ho non ho voluto avere la pretesa io mi ricordo che per visitare quel posto no ho letto persino dei romanzi non ho visto Instagram sì sì è quello che intendevo infatti e non era una documentazione che mi diceva quel posto è così 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 era un romanzo che mi faceva capire le leggende di quel luogo la cultura di quel luogo la cultura esatto la natura di quel luogo sì 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 ecco e una volta a viaggiare era normale fare così e un viaggiatore prendeva l'esperienza di qualcun altro percependole e capendo le situazioni capendo come si doveva comportare in questo viaggio dall'esperienza di qualcun altro attenzione una uno stato un non so una fotografia di Instagram non è un'esperienza non è un'esperienza vedi il paradosso che ora come ora ci vuole un attimo per trovare informazioni su un luogo in cui uno vorrebbe andare però in effetti mi ha colpito questa cosa ho visto su Instagram che dicono in effetti sì vedi la velocità la velocità voglio tutto velocemente voglio fare questa cosa perché è comunque idealizzata troppo idealizzata poi magari ti picchi perché questo viaggio potrebbe essere considerato anche molto turistico insomma perché non c'è niente di male se tu vuoi fare il turista in un luogo turistico e vuoi fare quello non c'è nulla esatto anzi ci sono queste bolle turistiche non vedi il mondo reale cioè non vedi il paese reale per carità ma dovresti saperlo devi essere consapevole che ovviamente nelle zone turistiche non vedi il mondo reale il paese reale però devi anche consapevole se vuoi vedere il paese reale perché c'è chi mi dice no ma siamo andati senza i viaggi turistici sì ma perché proprio lì perché in Birmania che ne so perché in perché io lo domando sinceramente nel senso il tuo scopo è quello poi di documentare una precisa situazione non una totalità impossibile ma va là perché c'è una precisa situazione di qualcuno che conosce o qualcosa che ti è toccato che vuoi comunque condividere col mondo no perché è un bel territorio non so niente della Birmania che ne so capito però ma scusami ma capisci magari gli fai il nome anche adesso non mi viene neanche a me il nome a proposito della Birmania quindi Myanmar quella che hanno arrestato non mi viene il nome tra l'altro è stata anche mi sembra il premio Nobel anni fa gli fai anche magari però perlomeno so chi è capito che ha combattuto proprio le realtà politiche sociali civili di quei territori e non hanno più parellia di chi sia e allora tu dici ma porca di ma cioè ma perché ci vai lo so che me la prendo anche troppo capito però la fotografia poi adoro Salgado che è stato un documentarista per tanto tempo è stato un reporter e poi è mollato perché ha capito che non riusciva a cambiare il mondo dopo il progetto Exodus non riusciva lì sei andato sei andato a parare su livelli altissimi sì eh lì sei su livelli magari infatti sbaglio a prendermela però non comprendo perché vai là per diporto per divertimento e poi te ne torni a casa ok no però come ti ho detto ci sta benissimo il diporto sì però devi comunque sempre fare le cose perché ti piacciono per te stesso non è che le devi fare per qualcun altro e dopo oltretutto pretendere di fare come hai detto tu fai la bella foto ok hai fatto la bella foto ma non hai fatto la foto artistica non hai fatto l'arte non hai fatto è tutto collegabile non hai condiviso come ti sentivi no no assolutamente assolutamente perché anche se come ti dicevo puoi avere un miliardo di persone intorno a te ma se stai guardando con i tuoi occhi i tuoi occhi gli occhi del cuore gli occhi della mente quello che stai guardando sei da solo perché è un'esperienza tua personale assolutamente assolutamente e dopo un'altra cosa un'altra pretesa che hanno ha purtroppo il mondo d'oggi è il fatto che è tutto accessibile come ti dicevo a tutto a tutti un'altra persona mi diceva sempre per un consiglio di viaggio che aveva prenotato una visita una visita un'escursione su un ghiacciaio e praticamente mi chiedeva mi ha detto che gli davano l'attrezzatura tutto quanto c'erano queste guide che li portavano spero gli diano anche larva sai che alcuni manco larva ti danno quando vanno sulla neve su ghiacciai comunque cosa ti ha detto e dopo insomma mi è venuto da dire ma scusa dal momento che ce li abbiamo qua attaccati quasi a casa sono ormai pochi insomma no però ce ne sono ancora hai mai fatto un'esperienza su un ghiacciaio qui a casa tua io ce l'ho detto insomma interessante ascolta devi andare in capo al mondo a fare un'esperienza su un ghiacciaio che si sa che la vuoi fare no ma perché vuoi fare Mesner in un altro posto quando potresti provare tantomeno a farlo qui sì sì è curioso vero ma delle volte cioè è come se non registrassero che ce l'hanno anche a casa loro in questo caso un ghiacciaio ma hai fatto venire in mente sempre una checchierata fatta un esempio del ghiacciaio ma è la stessa cosa il mare l'esperienza di fare ho un esempio che mi hanno fatto anche riferito al climbing allo scalare e ero giù e mi dicevano appunto che dei loro amici non capivano questi due miei amici che scalano giù è pieno comunque se devi scalare non importa l'altezza della montagna e comunque in Abruzzo ci sono le più alte montagne degli appennini di carattere alpino quindi c'è quanto vuoi per scalare due loro amici però volevano andare a scalare appunto dalle tue parti insomma in Tirolo in Trentino perché ci sono appunto delle pareti rinomate che è un po' come andare sul K2 o sull'Himalaya che c'è la fila per arrivare alla vetta cioè ci vai capito è pieno così di gente ma tra l'altro però l'Abruzzo è pieno di pareti scalabili perché è proprio là ah è perché è quella più dicono la più bella sì sì ma cioè tutto in giornata ma almeno goditi il panorama vatti a fare in giro dei vostri posti che sono meravigliosi e questa roba effettivamente è quasi inspiegabile è più una roba che fai effettivamente e non te ne rendi conto per somigliare a quello che pensi di essere non lo so ti giuro ho assistito ho avuto mi dispiace dirlo non voglio essere cattivo insomma ho avuto la sfortuna di assistere a una serata era una cosa supplementare ad una ad un'attività di uno dei miei figli insomma no e c'era una serata dove c'erano questi anche anche qua vai a fare un viaggio in montagna fai una specie di spedizione e insomma è un'esperienza tua no no devono farci le serate insomma no ci fanno le serate ok e qualcuno ci vive addirittura di queste cose insomma no va viaggia fa le serate poi ci sta va bene ti piace così anche qua ci facevo caso un altro giorno nella sala comunale fanno questa serata con quattro persone fotografi che viaggiano è una roba comune a quanto pare e dicono un'esperienza ok dopo questa questa mania di presenza di esserci di far vedere che hai fatto nella sala consigliare da noi comunale nella sala consigliare esattamente anche voi sì 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 è che è un classico e vabbè comunque a parte questa cosa qua a un certo punto c'erano queste fotografie fatte con dei bambini fatte a dei bambini ok quindi abbiamo già un discorso più complesso sì è più complesso insomma in pratica offrivano per fare le fotografie dei pestetti di cioccolata su queste montagne asiatiche a parte che ovviamente non potresti neanche poi farci un progetto qui ne parli in pubblico perché ci sono i bambini perlomeno in Europa è così in Europa i pestetti di cioccolata cosa dicevano di questi bambini ecco insomma effettivamente cos'è che dicevano che hanno è molto colonialista questo passami il termine dare la cioccolata la donna no 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 è molto è molto coloniale propriamente no e dopo effettivamente è finita la serata io non ho voluto fare brutta figura assolutamente tirare fuori cose strane insomma per un pochettino di approcciarsi alle altre culture allo stile allo stile un po' Alessandro un po' Bigi insomma no sono andato lì e gli ho detto ecco cosa ha detto insomma l'ho menato un pochettino in un modo un po' verbale senza offendere e gli ho detto ma come che funziona come che funziona insomma in un viaggio del genere gli ho chiesto come funziona un viaggio del genere insomma perché se io faccio una foto a qualcuno in Europa dovrei chiedere il permesso per farcela insomma ecco sì allora è un po' complesso mettiamola così è molto semplice nei luoghi pubblici puoi comunque fare foto anche se ci sono persone basta che non ci sia nessun volto veramente in primo piano protagonista o riconoscibile già se hai un volto qua e un altro qui già questo volto è troppo riconoscibile ma se i volti sono così e se hai un luogo pubblico puoi farlo i bambini sono una questione a parte i volti dei bambini erano come hai detto tu così scusa i bambini al di là al di là che siano in primo piano comunque i bambini no in teoria dovresti comunque censurarli ecco io in modo molto educato gli ho detto se io volevo fare una serata di alpinismo di escursioni io l'avrei fatta senza tirare in ballo i bambini io le ho detto così anche perché ecco sì a me dare fastidio insomma e dopo il comportamento di dire si accontentano la frase era si accontentano con poco con un pezzo di cioccolato ti fai felici abbiamo già capito altro che non sto neanche commentarla no non lo commento non lo commento abbiamo già capito è incontestualizzabile gli ho risposto cioè gli ho detto solo questa cosa è una mia idea una mia impressione insomma e dopo gli ho detto adesso so che non frequenterò più queste serate perché ho dovuto frequentare qualcuna di queste mi è capitato assolutamente sono serate di un po' bistiche e appunto hanno queste queste persone che fanno questa roba per hobby e e ti ritrovi queste situazioni del tutto superficiale hanno delle brevi non gliele faccio è pretese pretenzioso esatto è il termine più adatto perché non sei salgado e comunque se tu lo fossi ovviamente quelle foto le eresti fatte per una qualche testata giornalistica che sia online che sia cartacea non è importante quindi per un progetto documentalista per mostrare una situazione ben specifica di quei luoghi però c'è un progetto una situazione sociale una situazione di guerra esatto una forte problematica geopolitica naturalistica se vuoi un'emergenza ambientale sai ecco io purtroppo divido i reporter che sono appunto quelli che vogliono documentare dai paparazzi che invece fotografano personaggi pubblici in luoghi pubblici ma i peggiori secondo me sono gli sciacalli quelli che ti giuro che questa frase l'ho sentita dire da un insegnante di fotografia foto di donna che piange anziana e qui ho avuto fortuna perché era la madre della vittima e ho avuto la fortuna di fotografare in primo piano questo è stato fortunato a fotografare che fortuna che fortuna non qui ho documentato la madre che ha perso il figlio per la guerra tra detali per i libri di pa no io ho avuto la fortuna di beccare questo scatto cioè la madre che piange per il figlio capisci dove dove poi arriva l'esasperazione c'era anche prima dei social ma i social l'hanno amplificato cioè come diceva Umberto Eco i coglioni che andavano al bar rimanevano coglioni al bar adesso invece il social ha amplificato questo genere di egocentrismo e sono stato fortunato perché era la madre ma veramente e poi è una delle tante robe che poi ho sentito dire questo qua guarda sciacalli sciacalli Alessandro l'ultima cosa che ti posso dire perché purtroppo dopo sì veramente mi dispiace devo andare l'unica cosa che ti volevo ancora dire il fatto è che sia il piano artistico che il piano umano perché abbiamo parlato di queste cose qua purtroppo è molto carente perché lo è veramente di dello stato della coscienza c'è un incoscienza in tutti i sensi è questo incoscienza e inconsapevolezza e ci sono queste queste pretese che sono altissime è un pretendere di avere tanto senza dare niente dando veramente poco perché se io mi piazzo davanti non so adesso mi viene in mente parlavi anche del nudo artistico della Dana di Tiziano sì d'accordo oppure la venere del Giorgione io non posso dire sono di fronte ad un nudo volgare un nudo anche c'è un pornografico la nudità stessa in quei casi rappresenta la natura della persona che è una nudità artistica che è ai livelli più assoluti più aulici può essere con la forma è diventa un archetipo è vero è vero si parla per un nudo si parla per una foto di natura si parla della vita quotidiana anche del viaggio dell'esperienza che fai in un bosco siamo riusciti a spaziare da una cosa a mille ecco ed è così come sempre ed è così insomma guarda è una è una piccola che creata poi magari chi lo sa se ci va ne faremo anche un'altra sempre allo stesso modo e comunque ci sentiamo anche al di là guarda veramente non pensavo è una cosa nuova per me di solito parlo a quattro occhi o a più occhi però ma vedi frontalmente vengono sempre a fare cose molto interessanti quando ci si incontra quindi questa che creata non è diversa da quella che facciamo sempre non c'è vedi anche qui è tutta natura anche in questo caso ed è un peccato in alcuni casi non poter condividere le cose che diciamo anche con chi è interessato gli argomenti sai cosa mi sarebbe piaciuto fare e dopo veramente ti devo lasciare Alessandro volevo provare a fare questa esperienza dal bosco sopra casa mia però avevo paura che non funzionasse cioè non avevo logicamente impossibile da usare si sarebbe potuto usare il cellulare però il cellulare non lo so se ci sarebbe stata una copertura sufficiente per però lo vedete dalle classiche tacchetti però possiamo provare a farlo o magari vedendo io direttamente lì una volta se ci riuscisse potrebbe essere un po' un po' samanica anche quella ma è samanica è l'idea entrare in un bosco gratuitamente senza pretese e percepire quello che c'è in quel momento lì catturare potremmo provare sì sì io lo farei dal mio riveto mi connego dal mio riveto e tu dal tuo bosco allora sarebbe meraviglioso lo facciamo così dall'uliveto dall'uliveto prova prova ad analizzare queste cose che ti ho detto e dopo se proviamo nel bosco qua capirai tante cose sulla sulla socialità delle piante quello che ti trasmettono quello che ti dicono lo facciamo quindi questo è esperienza vera in un bosco è sciamanesimo è coscienza ecco esatto guarda io ti ringrazio infinitamente e ti ringrazio anche a suo tempo di avermi regalato questo sergente nella leve mi dicesti perché ti ricordava me questa cosa mi inorgoglisce perché mi ricordi una cosa che non ero cioè che non mi ricordi una cosa che non mi ricordo più di essere ecco questa è la fase giusta ebbè ma questo tra l'altro c'è anche la dedica per Alessandro con grande affetto e simpatia sei stato e sarei sempre un grande esempio di umiltà giustizia amicizia e fratellanza un abbraccio e da presto aprile 2014 quando ci siamo ritrovati dopo pochi anni sono dieci anni e lì c'è il ritorno sul don in quello stesso libro c'è anche il ritorno sul don sì esatto sì 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 c'è anche il ritorno sul don io ti dico che l'esperienza che aveva fatto perché avevo avevo anche ascoltato una un'intervista di Rigoni Stern che riguardava il ritorno sul don e lui aveva visto questa esperienza di ritorno in questo posto così che le aveva lasciato questa esperienza l'aveva assegnato così tanto in un certo senso per lui era stato un ritorno ad un'altra casa perché aveva avuto questa è come quando fai il viaggio quando fai il viaggio tu se ti trovi nel posto dove sei ti trovi in un certo modo anche a casa vuol dire che ti sta trasmettendo qualcosa questo luogo se invece è un mordi a fugi è niente è niente benissimo non è non stai viaggiando ed è uguale nel bosco te lo ripeto quando sei in montagna non stai andando in montagna stai facendo forse sport stai facendo forse un'attività fisica è vero un'attività ricreativa vai a farci il picnic a sto punto però non stai andando in montagna non stai andando nel bosco completamente d'accordo e te lo ripeto le cose più belle non so chi l'ha detto l'ha detto qualcuno anche questo che le cose più belle sono quelle gratuite se tu ti metti a pensare anche una storia d'amore una storia d'amore oppure un'esperienza che a volte può essere mistica con una donna insomma cioè le cose un bacio un bacio che viene spontaneo un abbraccio un abbraccio di un amico o di un familiare che ti vuole bene è spontaneo ed è gratuito viene ti viene viene così e le cose che vengono su quello che è praticamente il concetto di sacro quindi io l'inviterei a questa gente che paga per fare tutte queste queste esperienze a dire fermati vai fai la tua esperienza con la paura come dicevi tu del militare no? ecco sono andato perché avevo paura vai perché hai paura perché vuoi provare no? però fai le cose per te stesso perché ti piacciono se non ti piace andare in montagna non andarci cosa ci vuoi a fare? la foto a copiare una foto che è stata che hai visto su Instagram se non ti piace non ci andare stai solo creando scompilio già agli equilibri naturali che sono già precari non ti piace il mare non ci andare cosa ci vai a fare? vuoi mettere l'ho fatto? se non ti piace l'arte che cacchio vai a rompere l'anima dentro ad un museo per dire ho fotografato la gioconda cosa mi... un altro argomento quanti spunti quanti spunti però le cose devono nascere dall'armonia e l'armonia nasce dalla consapevolezza che quelle cose ti appartengono quindi qualsiasi cosa persino un mestiere persino un lavoro quindi non per forza l'arte che diventa pretensioso no 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 e adesso e adesso ti ricordo ti ricordo cioè veramente ti devo lasciare Alessandro però volevo darti una frase che mi aveva detto un professore della scuola superiore di scienze naturali avevamo legato molto perché lui faceva anche dei lavori in bosco durante l'estate e io lo seguivo ho imparato anche tante cose da lui e lui diceva che era non era un artista però era un esteta della natura e aveva anche un buon bagaglio naturalistico oltretutto già una frase che denota consapevolezza molto interessante consapevolezza ecco e lui mi diceva mi nominava sempre la parola armonia guarda sei in mezzo al bosco e vedi tutto questo casino perché era tale quale della pianta che c'è una sopra l'altra quella schianta quella morta quella marcescente dopo ti trovi la pianta che cresce dritta quella storta ecco quello che ti dicevo io che ogni pianta ha il suo carattere il suo modo di crescere come si avita si avvinghia ecco e lui mi diceva che se c'è armonia vuol dire che c'è disordine e questa qua è una grande lezione perché se tu la trasporti anche alla vita quotidiana dici ha senso se tutti fossimo uguali a Caravaggio per dire che era un grandissimo genio cacchio saremo tutti morti e se tutti fossimo uguali a Tiziano no avrebbe venduto persino casa sua dopo averla dipinta insomma per dire se ecco per fortuna c'è questa diversità questo grande casino sulla terra che ci permette anche di creare mille cose il genere umano è comunque una specie straordinaria con tutti i suoi difetti però finché c'è arte quella vera e fino che c'è l'amore e il rispetto della natura c'è ancora speranza per attenzione per concludere amore e rispetto per la natura non vuol dire che né che devi andare a pagare qualcuno perché ti avvicini ad essa e non è e andare per porta in un posto per dire perché mi piace la natura devi come quelli che vanno a fotografare i fratticelli nelle scoliere del nord Europa uguale è una specie a rischio se è a rischio cavolo me ne sto a dovuta distanza e me le guardo con un binocolo e non per forza e lascio andare chissà come andarci esatto quei pochi che possono e dopo è la stessa con consapevolezza armonia consapevolezza questi sono le verissimo guarda ti lascio andare che so che mi hai dedicato anche più tempo del dovuto grazie infinite però ci rivediamo nel bosco il prossimo appuntamento di questo tipo poi noi ci risentiamo anche al di là di questo incontro però per questo incontro ci rivediamo nel bosco questa cosa mi piace benissimo benissimo quando vuoi come vuoi grazie Ale di nuovo grazie a te ti dico a presto perché a presto insomma a prestissimo un abbraccione Martino un abbraccione alla distanza ciao caro grazie a tutti